buongiorno buongiorno a tutti i ragazzi ben ritrovati su usa twitch ho già iniziato con il piede giusto e una serie di improperie bestemmie che per fortuna che non c'era la connessione ma d'altra parte non ci sarebbero stati se ci fosse stata benvenuti benvenuti non so fast che cosa cozzo si metta a fare in questi momenti topici forse presa di sorpresa per l'orario inusuale siamo qui per demon souls volevo giocare un po di monso anche perché i miei ultimi ricordi erano il ragno e non ricordavo nulla di quello che c'era prima tanto che io pensavo che il ragno fosse aboletaria pensavo che il ragno fosse il boss tra la falange e il gigantone oppure dopo il gigantone invece era in un'altra area e e ricordavo il gigante io ora secondo me sono già in un'area di drop dell'epoca quindi non ho non ho idea veramente di che cosa ci sia adesso infatti ho scritto da qui blind non ho proprio la più palida idea di che cosa si presenti ora nel gioco e quindi andrei aboletaria da quartiere dei cavalieri facciamolo vediamo che cosa c'è adesso e dopo pensiamo anche a proseguire dopo dopo il ragno cioè in realtà probabilmente la cosa più intelligente proseguire dopo il ragno il ragno era più dava meno anime mettiamola così del del gigante e quindi probabilmente le sedie non saprei qui abbiamo sempre questa disponibilità prendiamo un attimo la mano triggeriamo questo stronzo ah poi non ho neanche visitato sopra qui oh sì non me lo ricordo andiamo a visitare sopra che magari ci sono degli oggettini simpatici non ne sono sicuro non mi ricordo faccia una scritta attenzione a lucertole no ma allora cazzarola hai fatto piuttosto in fretta levarti dalle balle questa non è una vera leva che si può tirare maledizione beh questa lucertola è stata veramente effimera niente titaniti niente titaniti per me l'ho sentito la viverna ah quindi sono già stato abbiamo già fatta sta gag ok ma boh sentite affacciamoci probabilmente l'ho fatta ah sì molto di fretta comunque infatti non ho neanche raccolto l'oggettino che inviamo a deposito che era loto del nobile non so che cosa cazzo sia ah beh c'è loto del soldato il loto del nobile va bene va bene va bene ci stava a salire perché c'è roba ah beh buona un'anima del soldato famoso questa qui ci fa veramente gioco vorrei raccogliere anche questo grazie vedete gli occhi effime non mi ricordo che cazzo è sono gentile perché è questa scritta del cazzo andiamoci ma non arriva la viverna mi sarebbe piaciuto vedere la viverna da qui niente da qui non la si non la si vede pazienza pazienza buon pomeriggio benvenuti a tutti e ok 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 possiamo effettivamente proseguire dopo questo controllino che si è rivelato necessario vogliamo triggerare anche l'amico no che poi mi becco delle frecce non ne voglio andiamo avanti c'è una nebbia ma non mi aspetto una boss fight sarebbe veramente beffardo anche perché prima non c'era sta nebbia sali di livello ah no no ma io salgo anche di livello ma è solo chi ha ucciso un arcidemone ah posto cioè quindi con bolletari in realtà abbiamo finito pesissimo ok niente andiamo andiamo dal ragno andiamo a proseguire dal nostro amico qui la città del tunnel mamma mia sembra tanto blight town non volevo andare e che cosa c'è nelle altre aree ad esempio la regina della torre torre di latria ah è questa latria un vecchio pieno di rancore assassinò la regina e gettò in prigione i nobili sopravvissuti ora vittime di guardie disumane soltanto i lamenti dei prigionieri sfuggono a quel carcio andiamo alla città del tunnel vala allora qui abbiamo battuto il ragno qui non si prosegue è molto una presa in giro questa ragnatea cioè ti dà proprio la sensazione che che qualcosa sia possibile ma non è così proseguiamo di qua no no ok scusate me ne vado me ne vado me ne vado no devo raccogliere lo porca miseria vai a zappare no tanto il drop rimane sei pure diventato veloce e non muori più con un colpo solo e queste robe porca miseria e in effetti erano diversi dai soliti oggetti vai a cagare oh beh ragazzi allora ma beh brava complimenti complimenti ma la smettiamo di prendere le botte no ma sono praticamente morto quanti cavolo ne ho triggerati ma si sono ingrossati in quest'area sono più più forti maledizione dai ok ok che bella posizione per schiattare allora cosa c'è scritto qua trappola era una trappola effettivamente ah là c'è un'altra cosa che esplode ma che casino l'oggetto supera e va bene inviamo schegge fighe a casa pesissimo cos'è questo materiale rocceo basta l'oggetto supera pietre a go go qua si farmano pietre ma un po' dappertutto qua in realtà ma che strane concrezioni non so neanche io cosa pensare mi curo un po' prima di proseguire là dentro usiamo le erbette più sdoze ok e teniamo le erbette buone dai adesso pronte siamo corti di erbe perché chiaramente abbiamo abbiamo combattuto gente cattiva merda cazzo 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 ma dove eravate lenti una volta basta vai fanculo fottiti ma le botte ma zio ma a me ti assegno quel cazzo di affondo ma è un incubo sto posto non vedo tra l'altro una fava ma niente vedo ok io non ho parole io non ho parole river di merda ma le botte speriamo che ci sia un'arcipietra dall'altra parte ok la situazione è piuttosto corta cioè siamo messi male molto male cioè tecnicamente dovrei farmare erbe ma dai questo cazzo di colpo ma ti ho dato l'input avrete anche sentito il rumore del controller ma allucinante ma cosa sta succedendo e allora tu che cazzo vuoi sembra una creatura della titanita più grossa come si fa ad andare lì a leggere quel messaggio è una cosa magica fidati sempre di il tuo cuore cosa vuol dire fidati di il tuo cuore oh Gesù come sei morto tu così sei morto no come cazzo sei morto in realtà andava bene andava bene quello che ha fatto sto tizio ma siamo sicuri che ci vogliamo affacciare qua perché di là c'era la trap c'era un'altra cosa bomba ma c'era dell'esplorazione anche di là aspettate che mi voglio affacciare da entrambi i lati e poi decidere quello che mi piace di più evitando possibilmente che quell'affare ci scoppi in dafeisa leggi il messaggio attraversa correndo che cazzo vuoi perché devo attraversare correndo vai a zappare sta arrivando giusto allora ma è lentissimo cosa mi immaginavo dai fai male la tua bazza sì è senziente il carrello 19-8 ok bene buono vado macchia di sangue non nella direzione che mi interessa è uno di quei super stranzoni cicciosi è da solo è davvero da solo che cazzo vuoi no urca vesti dell'ufficiale in realtà da valutare saranno leggi messaggio ho un oggetto interessante lì c'è una leva questo è un ascensore porca miseria augite della guida really dove cazzo è l'augite della guida l'ho tenuta perché non l'ha spedita la maison questo è il demo pietra che sprigionano luce guida frega ma che ok sarà una figata ma chi sarà è qui merda ma la faccenda si è complicata ora questo non può girare perché c'è l'ascensore voi mi insegnate ma io devo capire delle cose vorrei capire cosa c'è di qua ma cosa cazzo è porca vacca si sente lavorare ma sentite vediamo dove porta l'ascensore forse è la cosa più strategica ma poi perché strategica in realtà siamo vicini a un'arcipietra no 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 allora vado vado così cioè l'ascensore avrà ovviamente un gran senso ma sono tipo draghi che cazzo sono comunque dei fossili sembrano ma sto posto è inquietante però io io vado cioè che cazzo devo fare aiuto bello molto bene cosa cazzo c'è di là oh signore anche questo spettro che si cura prima di affacciarsi con una prudenza degna della via del capezzolo ma sono delle creature strane ah no 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 rimani aspettami brutto stai vaffanculo muori non mi interessa non mi interessa non voglio espormi ma PD vai via merda non ho neanche visto cosa ho raccolto 14 danni bene si va molto in là con 14 danni no ma stiamo scherzando è enorme ma non riesco ad affrontarlo sto stronzo ma fa culo merda merda alta alta allora debole nel senso non è che faccia delle cose così spettacolari ma 14 danni sono pochi certo uno dice fotti te ne passa e basta bella telecamera è molto bello l'effetto della telecamera che ti regala è un momento di non vedere comunque un cazzo di niente per principio non contento di aver preso sta cosa in the face qualcosa mi dice che non è un buon posto questo no però dopo un po' va giù dopo un po' va giù voglio tirarne giù uno per vedere l'effetto che fa ma avevi smesso di sputare prima dopo uno sputo ma perché cambiate moves ma cosa non l'hai mai fatto scheggio di pietra grigia abbiamo un bivio beh tu sei morto lì ok scheggia grande scheggia rotolamento non è una buona scelta grazie grazie ma guardate ma questa era è molto simile alla discesa della città in faccazzo quello là è un nemico sono lucertole gigantesche orrende cattivissime peso boh sono un po' worried tesoro tempo di cadere ma vai a zappare ah no però in realtà non ha tutti i torti scommetto cioè a un certo punto noi dovremmo scendere è chiaro vaffan ma sta telecamera di merda ma io andrei sottoterra con sta cazzo di telecamera ma non l'avevamo messa giusta io vorrei sapere per quale cazzo di motivo andiamo sottoterra con la telecamera ops madre di dios schegge qua qualcuno ci ha lasciato la pelle scendere bisognerà e lì c'è un oggetto e lì si scende però noi vogliamo anche affacciarci dove c'era la lucertola che ci ha non è che ci ha beffato non l'ho molto prestata non le ho prestato forse la giusta attenzione però insomma vorrei comunque capire di che cosa si tratta evita caduta va bene eppure mi sa che mi no forse mi stai dicendo guarda e ti tenta ma non lo devi fare evitiamolo lo evito allora da un lato c'è l'ascensore e dall'altro c'è questo sembrano proprio due strade completamente diverse questa mi ispira molte botte quindi voglio vedere dove porta l'ascensore eh ho un'esplorazioncina di qua e una di là questa è anche la strada più veloce da ripercorrere volendo no calma 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 l'ascensore è qui ma allora che cazzo c'era di là non mi ricordo devo un attimo riaffacciarmi di là devo un attimo riaffacciarmi di là scusate cosa avevamo intravisto tanto siamo a 1900 anime però credo che ormai siamo nell'ordine del 4005 tipo qualcosa del genere necessario dico per livellare cosa avevamo intravisto qua non me lo ricordo ah qua c'era il T no mi ricordo una sega anche qua si scendeva in modo interessante con oggetti e quant'altro sentite mi ispira di più safe questa zona qui senza la lava si sta più sereni no ragazzi non c'è ritorno da questo da questo passettino lo sappiamo ho voglia di bestemmiare quella non è una piattaforma questa sì non morire zzz rola cosa sto facendo tra l'altro lì come cazzo ci arrivavo ma come si arrivava là ma come aveva fatto quel tizio a mettere se prosegui puntini puntini sono cazzi immagino un po' come come sempre ma non è una grande premonizione sai sto giocando a un souls non so se curarmi va sperchiamo un'erba il diavolo questa macchia di sangue potrebbe essere istrutti ah però lui è sceso ed era vivo quando è sceso poi è morto e va bene però era vivo quando è sceso quindi io scendo hanno una grande resistenza alle cadute rispetto a un tempo cioè a un tempo in realtà al futuro dopo questo gioco perché là c'è un oggetto figo che si raggiungerà con un salto fighissimo maledizione eh qua bisognerebbe fare il salto della fede veramente come cazzo PD se lo sbaglio sono morto non ci provo non ci provo ci sarà l'oggetto finale ma cosa sto facendo aiuto ho schippato una piattaforma anello del monatto anello del monatto peste monatto descrivimelo un delicato anello con un sigillo viola scuro aumenta la difesa dalla pestilenza creato da Jerry è già sentito dire un amico del saggio Freke il visionario rinomato per i suoi artefatti magici l'ornamento del sigillo è un artiglio di ratto porca miseria fogne? stiamo andando nelle fogne ragazzi? da questa parte ah no questa è la direzione giusta ah ho capito la gag ma ho capito la gag ma porca troia porca miseria non schiattare river non cazzo porca troia no ragazzi cazzo questo muro è insolvito no 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 è andata così è andata così cioè lì c'era della roba qui c'era un oggetto ma tra l'altro sembra ah è una lucertolina probabilmente sì porca miseria questione di millimetri arca loca miangio aia non sei al sicuro qui ma guarda so perché me lo immaginavo Dio quanto non si capisce una fala ok lì che devo andare ultimo salto senza curarmi mi curo lì qui si arriva un oggetto quella sembra la muta di quelle super lucertole che abbiamo visto questa sembra una strada ma tanto comunque non ci arrivo più lì quindi devo comunque andare di qua fai un passo avanti sì ma fatti anche i cazzi tuoi aspetta ok quindi devo andare lì ok quindi volendo c'è una doppia via lì c'è una lucertina le lucerte le mangiano tutti i coglioni ve lo dico una scala una scala una scala però io allora a sto punto prima voglio gli oggetti scusami anche perché qua c'è una scala quindi posso banalmente scendere non c'è la discesa super veloce ci sarà ma non me ricordo come cazzo sarà ah è così ok è una corsa vabbè come probabilmente è sempre stato cosa cristo fai scusate anima di eroe sconosciuto sto schippando l'infinito vabbè sentite pace adesso non è stata proprio l'esplorazione perfetta che sognavamo qua chissà chi incontriamo vero vai a zappare no è un incubo è un cazzo di incubo no no me ne vado me ne vado osservo ciò che mi sono lasciato alle spalle vabbè tre tizi cazzo mene di ammazzarli niente non c'era nulla lì dentro non mi interessa vado via vado via leggi messaggio sono nei guai raccomanda questo messaggio ma ci sono delle ossa gigantesche raga ma ossa immense caverna con cose oggetti ovunque io non mi faccio dettare l'agenda dagli oggetti ragazzi se no sono cazzi amari ma è tutto un bivio tra l'altro questa sezione diffida di un nemico nascosto vai affanculo ok vabbè è lui però no cioè nel senso stronzo però vabbè cosa fa si suicida cosa cazzo fa si fa la doccia ma che cazzo fa perché lo fa così eh perché sono uno stronzo ecco per oh cacchio per piacere mani di dio mani di dio ho trovato le mani di ma pensa te maradona ok non posso cazzo però scusate sto finendo le erbe vai avanti river vai avanti non morire qui vaffanculo patroio scusate scusate questo è l'unico ancora da un colpo solo figurati se seguo quello stronzo io di là non vado ma siamo nei guai vai venite mo' trappolina di sta ceppola va allora ho battezzato che voglio fare sta strada qui dove ho preso sti danni l'ho preso ah quindi l'esplosione mi ha coinvolto dobbiamo fare non vado ti ho betrino ho to 골�した miembri va comunque la Non lo so ragazzi Non lo so Non so cosa pensare Mi sembra di prendere un po' troppe mazzate Ma non c'è una strada con meno mazzate Era qui lo spara stronzate Lo spara cazzate Ma cos'è? Ho sbagliato Ma cosa fa Yoga Flame? Qui ha sia lo Yoga Flame che lo Yoga Fire Erba piena Sì ma altro che un'erba piena mi serve Eh la tendenza è peggiorata sì Porca trotto Sentite vediamo per curiosità dove porta l'ascensore Magari è un posto bellissimo Già si scende Oh ma insomma Ma che cazzo Ma che cazzo Ma Dio River quanto fai Cagare Scheggia go go Qua ce n'erano delle altre Ah finché non ricarico non peggiora ok Torna indietro e vai a destra Torna indietro e vai a destra Ragazzi Ragazzi quei due fantasmi Sono un po' Un po' solidi per essere dei fantasmi Ragazzi non ho parole ve lo dico Ma è un cazzo di incubo È un cazzo di incubo ragazzi Oh vabbè era una prova Vi ricordo che non è una run completa Ma è una prova per vedere il Già per annusare Un po' vecchi odori Se si ha l'anima di tendenza bianca si può procedere Ma tu dimmi Merda Ma io mi sto veramente cagando Comunque qua c'è qualcuno che si muove E non me lo tagga Non me lo si tagga Insomma Locca Niente non lo posso loccare Il gioco ha deciso che non è loccabile questo tizio Niente Si fa poi totalmente i cazzi suoi Eh guarda grazie al cazzo Guarda a sinistra Qua c'erano delle trappole Se non ricordo male Le avrò veramente schippate Mamma mia scheggia scheggia Ah zappa Ah non è proprio che si cascava nel nuvo Vabbè 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 E proseguiamo Accidenti Ma una soddisfazione Non riusciamo ad averla Si messaggio comunque Se solo avessi degli amici Ma vai a zappare Sti messaggi Forse mi mettono più ansia che altro Non può essere una boss fight Non può essere una boss fight ragazzi Quindi è un'area Nessun segno di demoni È un troll È un prenditore per il culo C'è un demone C'è roba brutta Ho più o meno una vaghidea Anche di dove siamo Forse Che palle sta lava Cosa? 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 È paces È paces Che ovviamente ci prende per il culo Vorrei ammazzare queste piccolette qua Ma i danni che non faccio? Ok Ok questo esplode tipo No Diventa un sasso Senza drop Sembrano dei piccoli Anchilosauri Avrà una super mossa che stanno tenendo per l'ultimo secondo Vai a zappare Non è riuscito comunque a farmi colpire da questa specie di Pokémon di merda Aspettate Sto cercando di uccidere perché voglio vedere Ahia Ho intuito Ho intuito Basta morite Dio Vabbè la fondo non dà nessun reale vantaggio contro questo nemico Mi sembra Baces Eh là c'è la mamma Orca vacca Orca trota Sarà veloce a differenza delle figlie? Sarà forte? No Fa solo una mossa assurda e Io come cazzo lo batto sto nemico? No Vabbè Non ha un cazzo di senso sta cosa scusate Scheggia di Pietra Drago Immagino sia una figata Fai un passo avanti Vai a zappare Invece lo faccio No vaffanculo Incredibile 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 Ma non c'erano abbastanza sfide nel gioco Ci volevano anche gli stronzi Mentre la lucertola può farsi sui giri Porca vacca Ragazzi Puoi esplodere per piacere? Grazie Grazie 10-9-8 Grazie RazorTech Grazie dei 5 Questa non sembrava una buona idea Però vabbè è andata Porca miseria Buah non so cosa pensare Non so cosa pensare Erba piena Non le mettiamo a bordo Le erbe piene Eh no Eh no Questo non me lo devi fare Eh no 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 Spediamo a casa Delle Però le pietre Vabbè al momento Eh le pietre ragazzi Al momento non ci servono Questa è la verità Abbiamo appena perso Delle erbe Che ci servivano subito Come se adesso Eh dovevi avere Delle pietre pronte Per il pimp Unico Irripetibile Allora Bisogna procedere Facciamolo Facciamolo Sono un po' Cioè è che non vedo Una parte fattibile Ma deve essere Questa mi sembra La più fattibile Di quelle Che possiamo fare Delle pietre Questi qua mi servono Per ricordarmi Dove non voglio andare La Andrò di qua Non mi ricordo niente Però uno è Trappola esplosiva E caduta nel vuoto Quindi questa è la strada Mi ricordo Qua Abbastanza C'è il tizio C'è il tizio dietro L'angolo E vaffanculo Incredibile Dove cazzo era Non l'ho vista Me la sono già beccata Anche prima Ma non l'ho proprio vista Adesso c'è Ho zappatore Oh signore Scheggia go go Sprechiamo questa Sprechiamo È il suo Andiamo avanti Mamma mia Allora Paces Allora Di ammazzare quelle lì Non ci interessa più nulla C'è C'è l'andare sopra Lì c'è un oggetto A dire la verità Ascia grande Mi frega E' ancora più grande Dell'ascia Paces Vai a zappatore Allora Questa ha l'abitudine Di fare i saltini E di non morire Facilmente Scheggia di Pietra vaffanculo Pasta E basta E mazza E vaffanculo Quelli hanno La versione Sono la versione Incazzata Di loro stessi Brutta gag Tu che cosa Adesso mi direi Che sei amico Non sei matto Come gli altri Vero? Che bei compagni Di viaggio Siamo Piacere di conoscere Figures Grazie Marg Vedi quel tesoro Laggiù Te lo regalo Per dimostrarti Quanto era palesemente Uno stronzo Piacere di conoscerti Quegli imbecilli Affamati di animo Ti fanno impazzire Quanto è palese Che ti sta prendendo Per il culo Che cosa c'è? Mi sto forse Allora Non dobbiamo attaccarlo Perché sicuramente Patches Più avanti Fa delle buzz Là c'è una caduta Nel nulla Quindi lui ci darà La spintina Che gli è propria Chissà qua dove si va Ma Andai di Accidenti Questi volano Ma per me è una gag È una gag Idta che è riaccorto Però È riaccorto Io te lo dico Ma vorrei ucciderlo Ma non facciamolo Si incazza Che non gli ho dato retta Non sembra Anima di eroe famoso Ma non è si eroe famosi È così famoso Che non ha un nome Forse è proprio questa La beffa Oh La lezione Nascosta Adesso c'è La grande scarica Com'è che si chiama Cazzalolo Vabbè Boh Cioè In realtà devo scendere Non di qua Bensì di là Dai tizi volanti Cioè con le alette Poi magari non volano Merapaccio Meriteresti Però Magari un giorno Diventerai un vendor Di cose uniche Quindi ti lasciamo stare Salire là Salire là Non mi piace Scendere qua È un cazzo di incubo Ma facciamolo lo stesso Voilà Un po' di sano R1 Old school Questi non droppano Di base Io da un altro Lo lasciai indietro Delle anime Non mi ricordo neanche dove Prova freccia Ma vai a zappare Non ho nulla E basta Su saltino Figurati Che palle E ruggiscono come leoni Tra l'altro La gag è quella Aspettate No io non ho proprio Niente con me Che bella idea Ma potete provare Delle bombe E qua ci passo Fra 90 anni Ragazzi No facciamo così 10-9-8 Via No River Maledetta Non farmi dire niente Pezzo di pietra dura Eh si iniziano a sprecare Le erbe vere Dobbiamo scendere Ma no Basta Slocca 10-9 8 Dire che non sto esplorando Ragazzi È riduttivo Guardate lì C'è un oggetto Bellissimo È riduttivo Giù Bene Mi sarebbe piaciuto Arrivare lì Probabilmente potevo fare Dei saltini fighi Che non ho fatto Che giornata Che giornata È una gag È una cazzo di gag State lì No No che non avete abbastanza Intelligenza da salire Vabbè Devo farlo di corsa Ma da che parte Giù È giù Giù È giù Ma va Sentite 10-9-8 Via A mi correre Lucertole nelle vicinamme Non mi dire Basta che non appaiono di nuovo Quei cazzo di cose Che escono dal terreno Ma Barca di quella barca Te e quella scritta Arrivano 10-9-8 Via Sto schippando L'infinito Ma pd Ma io sono già stato qui No Assomiglia però Aspettami 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 L'oggetto lo voglio 10 9 Piglialo Anima di soldato Antico Antico E' meglio di famoso Usa incantesimi Sul prossimo nemico Qualcuno ha un commento? Secondo voi sono in blind Guardate Vi faccio notare che Le live hanno un titolo Lo so che potrebbe sorprendere Molti di voi Entrare nella nebbia Prossimo nemico Prossimo nemico Questa è una trappola Fidati sempre Di pura fortuna Fidati sempre Di pura fortuna E' Una presa per il culo Una presa per il culo Perché non è una presa per il culo O una presa per il culo Perché non è una presa per il culo Perché non è una presa per il culo Ah il diavolo Incredibile come qua si sente C'è la vita dentro Questa roccia Ma raga ma che razza Di location è Voglio andare a casa Aspettate Devo dare un like Nooo Ho 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 L'impactere Vabbè Guardate spine dorsali Di esseri Ma tipo delle Come vai sbagli Ma raga domattina Ma raga Usa magia era lui Nessun segno di sedie Cos'è la gag delle sedie ragazzi Ma allora è vero Che cazzo bisogna fare con Ma è una delle cose Non so cosa giudicare meglio se L'idea Il gameplay O la telecamera Non so cosa sia più bello Non so cosa sia più bello Vedo che pisto l'acqua L'avete pensata in due Contemporaneamente Rifletteteci Non dirlo Togashi È una gag Ho premuto triangolo Non so che cazzo Voglio l'arma Spiegami l'arma Dio 164 Ci ha messi male Ma ce la facciamo Avrei potuto usare L'ascia Che beota Anzi la provo Va Buona Usiamo un attimo La frangimaglia Ma tanto per rompere Un'arma diversa Dal solito Tra l'altro La frangimaglia Ha decisamente Un suo perché In questo In questo contesto No vabbè raga Ma mi ha anche esploso In the face Allora Questo è il bivio Da cui siamo arrivati Ci vuole pazienza Quella è una trappola Mi annuncio Ma sono tutti bividi Io Vabbè Secondo voi qua il giocatore Arriva qui Tra l'altro questo te lo devi beccare Davanti Quindi non ci penso neanche Ci sarà l'oggetto finale Dietro Rimane lì Rimane lì Augite della guida Madonna Prova attacco a distanza Hai rotto Voglio solo spada e scudo Non mi rompere le balle Ah era meglio fare la prima parte Di tutte le arcipietre Ah beh ma siamo sempre in tempo Ragazzi Voglio di bestemmiare Scusate una cosa Ma PD Ma PD Ma PD Ma PD Non è la stessa ovviamente Ma allora dove cazzo Eh vabbè è un altro giro Sti cazzi Nisba Quindi veramente abbiamo un altro bivio Io non ci voglio credere raga Eh vabbè Anch'io L'uscita Questa è una trappola ragazzi Questa è una trappola Non ci vado Non ci vado È chiaramente una trappola Tocca una chiesa Come sei morto È morto molto presto Guarda a destra Perché andare nella lava? No No Ma ragazze Spada lunga del drago più uno Io la volevo lasciare qui Spada lunga del drago più uno Vabbè Non abbiamo una spada lunga più cinque Però Comunque Ma ora Io lo devo aggirare Come cacchio lo aggiro? Ma così No no basta Bella Dei scavatori Ma che incubo è sto posto Ma pd È un fottuto Anima di eroe famoso Mi ci finco Subito Mi ci finco Ma tu dimmi Ma tu dimmi Ma tu dimmi Scusatemi No ragazzi Ma che cazzo di incubo Non c'è l'anello L'osso del ritorno? Fai attenzione a lucertoli Grazie Grazie al cazzo Mi raccomanda Questo messaggio Non l'abbiamo già letto Questo messaggio? Un basa? No un basa Non l'abbiamo letto Perché solo con l'arma due Che cazzo ho premuto? Perché sono con Perché un basa? Che cazzo sta succedendo? Amo sto scudo Ok ci siamo affacciati su qualcosa Visioni di mostri Ok Una bella Bella gag Posso dire cazzo? Ma io non ne posso più Guarda su La chat E sono come i messaggi Del gioco Eh su Cioè Da dove siamo arrivati Cosa devo dire Cioè Che cazzo dobbiamo fare? Ho capito Ma Sentite Mi butto Siamo vivi Nebbia Cioè Non so se dovrei esultare Ma Erba piena No basta Spedire via L'erba piena Maledizione Quando è che la finirò Di fare sta gag? Sembra la tomba dei giganti Ragazzi Mi sto veramente Cagando addosso Però ovviamente Ora c'è un boss Questo sì Questa volta sì O qua L'omaggio a Yoko Taro È importante però Wow Vabbè Ho paura Voglio quell'oggetto Ma fammi entrare Cazzo Ok Pietra Va vai a zappare Tai la pietra Dagli occhi a fine Evocami In posto sicuro Che cazzo vuol dire? Attento a fuoco Grazie Evocami Evocami in posto Ragazzi Volete Volete entrare? Se qualcuno vuole aggiungersi Io non so come è successo L'altra volta Però l'altra volta Un ragazzo Si è aggiunto Se volete Io sono qui Non so come possa funzionare Se solo vendessero È come tornarci qua Perché non possiamo fare Tutte le volte il percorso Che ho appena fatto Quindi Ma Ma Questo è il buco Preso sul serio Fino alla fine È il buco Fino alla fine Dai Era easy Era easy Poi ti infili qua e vai a destra Fiammeggiante è il suo nome Ok quello è brutto Pure questo Danni non tanti Vai a zappare No Eh allora no Non è Non è leale Scusa Se ho lo scudo alzato Tu non devi farmi un cazzo Grazie della camera È un oggetto Dove cazzo sto andando Ma non posso consumare le erbe ragazzi Non posso consumare troppe erbe No Vai Due mani Ah no 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 Però Però non così Eh no Non così No 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 Assurdo No schivare Non serve un cazzo Vai a cagare Su un pacco Ma allora Lo schivare Mi L'altro mi si starà per rompere l'arma. Che sbattimento. Puoi esplodere in nomine... Dei, grazie! Non farti pregare, su. Ah, era a destra che dovevo andare? No che non era a destra. Cioè, qui dovevo andare di qua. Senti, io ti schippo. Spero di poterlo fare. Vai a destra! Ma daca, ci siamo arrivati da qua prima. Erba piena, beh. Allora vado dall'altra parte, ma è pieno di nemici. Li schippo. Vado di qua? Ma PD, ma che cazzo mi fate venire qui? Che è pieno di nemici. Ma... Bene. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito. Ma vai a zappare. Ti supero, non mi interessi tu. Corri! River di merda. Come è che abbiamo rotolato l'altra volta? Era di qua. Ah no, potevo fare la bazza. Vabbè, non importa. Quindi è qui sotto la gag. Ah, potevo essere esplorativo, cosa che non sono stato. Va a zappare pace, non importa. Non ce ne faremo una tragedia. E andremo avanti. Lo stesso. Sti, grazie. Non si vede una fava, io dico PD. Ah boh, vado qua. Ora ci proviamo a fare sta gag, tanto. Gag per gag. Devo scendere ancora, giusto? Madonna che due coglioni. Queste strade così lunghe per arrivare al boss, però. Vez, non ti sognare di cadere. Ma hai capito? Ma... Ma c'è questa gag tutte le volte, raga? really? Ma io dove cazzo sto andando? Ma io dove cazzo sto andando? Ah, dove ero prima? Ah, ok, fatto. Bene, bene, bene. Però io voglio assolutamente prendere ciò che c'è qui. Ok. Anima di eroe sconosciuto. Ci sarà un motivo! Forse non era questo grande eroe. Sì, 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 bravi, 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 bravi. Però fosse questo il buco. Sì, lo era. Va bene, va bene. Giusto per rompersi le balle un po' di più. Allora, dammi questo. Allora. Sì, ma... Prendo un pochino di danni. E ne faccio pochi. Comunque, facciamolo lo stesso. Anche se mi sembra un po' impari lo scontro, vi dico la verità. Cioè, lui non è particolarmente figo. Ma sono i danni ad area che fa che sono una rottura di coglioni. Eh, vai a cagare. Ma pa... No! Ho rollato Simon Style. Veramente, basta andare lì, PD! Vabbè, non brucia tantissimo quello. Beh, è un po' di spammino... Nel kill, riusciamo a farglielo. Allora, lì c'è sempre lava forever, ok? Quindi devo stare un po' qui. Eh, ma ho girato dalla parte sbagliata. Eh, ho fatto la cazzata. Altra river. Ma PD! Ma maledizione! Ma no! Se fossi un po' più forte sarebbe bello questo boss, nel senso, non sarebbe forte. Ah, il diavolo! Sono un idiota. Eh, infatti. Confermato! Sono avido. Ma basta, PD! Ma potevo infierire non una. Dieci... Eh, vabbè. La telecamera ha dato un po' il suo meglio. Eh, non ho un buon bilancio. Perché inizia a schivare. Vero? Avete visto la schivata? Quanto è lenta la stamina a risalire, Dio. Quando arriva l'apposito pimp... Ma perché le devo dar... Gli devo dare il pugnetto del cazzo? Toglietelo da sti giochi di merda, quel colpo. Fai una cazzata, per piacere. Sto rischiando. Dove cazzo vai che sono qua, vets? Merda, merda, merda! Merda, merda, merda! Raga, sono morto. Menomale che è scemo, mamma mia. Merda, 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 merda! Merda, 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 merda! Oddio... BASTA! BASTA, stronzo! Prima andavi da tutt'altra parte, Dio! Eri una pippa fino a un secondo fa! DRIVER, VO' A FAN' CURO! Porca pittana... Ma chi se ne frega, non voglio, si fa, si fa, si fa... Ma Dio, grazie Nico, dei dieci... Ma è che ora non posso riprovarci, ho finito le erbe, Dio! BASTA! Porca troia, che due coglioni! Incredibile... Altra è un boss di merda, ragazzi! Cioè la boss fight è brutta e facile, il problema è che io non gli faccio un cazzo! Dai, veramente From è migliorata nel tempo con le boss fight? Vai cazzo, mi devo buttare? Non mi ricordo mai dove mi devo buttare, zio, di lì, di lì, di lì... Vero? Madonna, per un pelo! Con un po' di cischiatto Culo Meglio così Ma va a zappare va Ha fatto schifo per tutta la boss Poi ha iniziato a dare i colpi giusti Ma che cazzo gli è venuto in mente? Devo continuare a far cagare E poi soprattutto si faceva tantissimo i cazzi suoi Si faceva tutti dei giri Andava di là, di là Ma vai, vai Continua ad andare di là Cosa vuoi da me? Ma dove cazzo? Ma non ne ho più volo Ma Dio mio, arriviamo giù? Dove cazzo è il buco? Annoso problema No, l'arma Merda No, vabbè 157 su 200 Ok, non siamo in crisi Ah sì, è tipo una mezza seconda fase Porca miseria Porca miseria Porca miseria Merda, sta cosa delle erbe ragazzi È talmente una merda Che io non so neanche come dirlo in italiano Se non, appunto dicendo che è una merda Vaffanculo Basta la stamina Non si può fare quello che si fa in Bloodborne È inutile Gli continua a dare i cuccietti Porca troia Se li potessi disattivare Quei cazzo di cucci di merda Come i calci in Dark Souls Dio Semplicemente disattivarli Porca troia Bell'idea Ho avuto, molto Niente Non si schiva un cazzo Non si schiva un cazzo È allucinante Cioè bisogna accettare di essere colpiti Ma dai Qui vieni con la resistenza al fuoco L'armatura resistenza al fuoco E ciao Ci sarà sicuro Figura O con un'arma un po' più grossa O più livelli In saccoccia Tipo Possiamo pretecere giocare Ho pagato Il gioco Grazie Stamina Oddio Ma porca Oddio Quel cazzo di cuccio Ma che cazzo fa Voglio che mi scriviate in chat A me non esce mai per sbaglio Scrivetelo per piacere Non mi è mai successo Di cosa stai parlando? Non esce ma no Basta non premere in avanti Mentre ci colpisce Con il nemico che ti sta davanti Con la spada Che voglio dire Perché io premo in avanti? Che senso ha? Nessuno Porco No no Non devo rotolare È allucinante Se avessi il Simon di Bloodborne Sarebbe morto da due ore Ma vaffan Un culo Te è il fuoco Non ne posso più di quel cazzo di colpo ragazzi Questa è letteralmente la mia ultima partita Ve lo dico Pega ste cazzo di anime Curati stronza Che cazzo era sto rumore? 20 anime Meno male che l'ho preso Ah mai tre colpi Mai tre colpi sono morti Grazie Aide Taka Per la tua telecamera di merda E grazie Bluepoint Per non aver fatto un cazzo Se non peggiorarla Con altre opzioni orrende Vaffan Culo Ma Dio Allucinante Ma non avevo i guanti Della resistenza al fuoco Ma tipo Non li ho neanche equipaggiati No vabbè Vaffanculo Cioè colpirlo è colpirsi Beh ma allora Terzo colpo che non devo dare Purtroppo non posso fare tutti i tentativi che vorrei Perché ho finito le erbe Questo per dire a cosa stiamo giocando A me piacerebbe stare qua Tutto il pomeriggio Non posso Perché devo andare a farmare le erbe Bel gioco del cazzo Bello Dai vaffanculo Porca Dai sto gorilla di fuoco Ma io non ho Ma poi che idea del cazzo Basta 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 Dio Hai rotto i coglioni Dove ce l'hai le aperture Stronzo Basta Troppo comodo per te Avere stamina infinita Vaffanculo Basta ci torniamo un'altra volta Ci torniamo un'altra volta Vaffanculo Troppo comodo Troppo comodo Per lui Non è schivabile Bisogna farlo con lo scudo Ma che schifo Me ne vado Ma vai a cagare Ma chi se ne frega di evocare Una merda di boss Facilissimo Ma vaffanculo Veramente Che schifo di gameplay Andiamo qua Allora Dio che merda Ragazzi Dai Smollagli ste stronzate Dio Cagare Cosa sono venuto A prendere Le erbe Mi devo anche curare Un sacco Cosa è sta roba Magari sta roba è utile Questo che cazzo Un tema che sono Detto da molto Per la sua capacità Di usare Raghi ma io nudo Ma vai a zappare Allora Allora Dove cacchio stanno Ma tipo qui Ma non ne ho Pensavo di averne tante Ne ho otto Non ho anime Non ho anime Aspettami Non ho anime Orca droga Apri mi sto Chi è il più scarso Questo Ripariamo le armi Allora Forse posso fare un pimp Sì Facciamole Intanto questo è il percorso Che abbiamo scelto Poi con la spada bastarda Probabilmente farò L'altra opzione Quella sulla forza Ripara Quindi lei si è riparata In realtà Questo è buono Non è abbastanza Anima Usa I guanti dell'ufficio Adesso pensiamo Anche all'equipaggiamento Perché in realtà Abbiamo delle scelte Che potrebbero Non essere male Scoppiamo tutte le anime Che magari ci scappa Un livello Un livello Ai come Anche di più Di un livello Allora Adesso il ripare In realtà Passa in secondo piano Che cosa possiamo fare A livello di armatura Noi abbiamo raccolto Ma sta Nelle cose Quindi bisogna andare qui Abbiamo raccolto Un Coso Allora È qualcosa di utile Fuoco 25 Mettiamola lì Fuoco 30 Fuoco 30 Buono Fuoco 30 Aspettate Aspettate Allora 27 Ma fuoco 30 È più leggera Mi metto un pochino Di cose Contro Mi metto un pochino Di cose contro il fuoco Che cosa dite? Questa è che Molto resistente Cioè dire che Non è che lui faccia solo Danni Danni da fuoco Però L'arma L'ho appena L'ho potenziata Ora ragazzi Cosa dite? Ci può stare? Mettiamolo dai Vediamo a livello di guanti 26 su 50 Chissà se riesco ad alleggerirmi No Ma Se giocassi fat Quanto ci metterei Una vita Ripigliare la stamina Però posso fare così La mia resistenza al fuoco Così l'ho sicuramente migliorata Una spalla scoperta Ma va bene lo stesso 24 Poi adesso forse faccio un livellino Potrei metterlo in resistenza Magari qualcosa riesco a metterci Vediamo Dove sei Baby Allora La vitalità è sicuramente tanta roba Ma Non mi interessa La resistenza Io sono sempre corto qua Di stamina E voglio mettermi più cose addosso Quindi è decisamente Resistenza Tutta la vita Vado a 51 Non ho La possibilità di fare un altro livello Per poco Per poco Vediamo se riesco a fare un migliore arma Volendo sì Lo faccio Non è materiale Che cazzo dico Infatti non è un pezzo di pietre Strano però Tutte le pietre che ho trovato A me le sono spese prima Va bene Va bene Allora Vediamo se riusciamo a mettere qualcosa addosso A livello soltanto di guanti No Perché dovrei fare 25 e mezzo No È totalmente impossibile No No A livello di erbe magari Ho pochissime erbe Ho pochissime Allora facciamo una cosa Ho pochissime erbe Mi servono un pochino di anime Vado a fare il tizio con gli occhi rossi Perché di mezzo c'è anche il tizio Che ti droppa le erbe Le erbette un po' del cazzo Però che devo fare Scudo contro il fuoco Non credo di avere nulla Ah vai a zappare Avrei bisogno di droppini fortunati Però d'altra parte poi mi servono le erbe Vabbè facciamolo per le anime Per staccare un po' mentalmente Perché La cosa che io non possa continuare ad insistere È vero Anche Bloodborne ha questo difetto con le fiale Ma non Di fatto non lo subisci mai Se fai un po' attenzione Qua è una roba allucinante Sembra che ha preso i giochi per cellulare Che si deve caricare Per poter giocare di nuovo Allora Ok Erbetta Bello Affacciamoci Devo arrivare a 5000 qualcosa Il tizio con gli occhi rossi dovrebbe bastare Occhio che non va sottovalutato Perché pesta come un fabbro Anche se sono un pochino più forte Della volta precedente Mi è scappato Tra l'altro Magari non col boss Ma in realtà è un attacco interessante Che non l'ho mai Preso davvero In considerazione Quanto ha rotto il cazzo il fuoco In sto gioco Ricordiamoci di non curarci Per nessuna ragione al mondo Se non con la magia Sto cercando di lockarti Sono stati dei drop Figura Sicura Sì Ok Il ciccione mi dava un'erba mezza Però una alla volta È lunga Tu me ne dai due Abbastanza scarsi È comunque meglio Che un calcio in culo Ah ma le ho già Sono già con l'erba calante Di base Erba piena Erba calante Quindi non ho Non c'era l'erba mezza Ma la sono sognata Freccia Classico Zappare Droppini Nessuno Però mi sembra che il rosso In realtà ci droppa qualcosa Di simpatico Mi pare di ricordare Facciamolo Sperando di non lasciarci Speriamo di non lasciarci la pelle Bello Quanto son lento A recuperare la stamina Porca Miseria Ah ma l'ho infilato A metà dei suoi Oh Bastardissimo I danni Non farmi sprecare Ti prego Devi solo crepare Sono morto Incredibile Incredibile Se mi curo Non ha senso Si rifà Si rifà Così Sono sempre più anime A rifare tutto il percorso E c'è un'erbetta Erba crescente Per uno Ragazzi Notevole L'erba crescente Io avrei messo Con la telecamera Se n'è andato sotto Io voglio la telecamera Sotto terra Basta Fermati Di stronzo Erba crescente Attenzione Ehi Mi l'ho dimenticato Di te Troppa Perché t'ho fatto Un backstab Non è giornata Però tu si Bravo Frangimaglia Molto utile Tu mi darai Della bombetta Trementina Che Qua cadere nel nulla è veramente una cosa brutta. Vieni mo'. Che almeno mi dai due erbe simpatiche. Dai, fai una cazzata! Fatta io. Ragazza, mi pare! Ok. No, presto. Facciamo dopo questi mobbettini qua. Uh, bello l'attacco in corso. Non l'avevo mai fatto. Figo. Utilità poca, ma figo. Allora. Vediamo di non cazzeggiare. Ah, le animazioni nuove sono meravigliose. Meravigliose, veramente. Allora, allora, allora. E ce l'avevo. Nudo per me. Maledetto. Ma vai a cagare! Non ci credo! Lo sto sottovalutando. Lo sto sottovalutando. Lo sto sottovalutando. Sto ballando con 5.000 anime. Devo prendere sul serio. Veramente non si può giocare con questa leggerezza. Nulla ti è dovuto in un souls. Un soul. Eh, questo è importante da capire. Non c'è il relax. E non c'è la parte easy. Bello, un'erba crescente. Tappabuchi in alcune situazioni. Quante volte avrò fatto nella mia vita sta cazzo di scalinata di boletaria? Tante. Nessun droppino, eh. Peso, 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 Ragazzi Vai, vai, vai Venite, venite Su Ma proprio la trementina volevo Volevo proprio la trementina Bisogna ritrovare la mente È tutto mentale Dark Souls, Demons Sono giochi mentali Ovviamente E come tali vanno Vanno giochi mentali di grandi telecamere Ma è dispiace che la telecamera sia sempre così dall'alto Perché vorrei vedere anche un po' dal basso il mio personaggio Adesso schiatto da sto tizio ragazzi Droppo Ve lo dico Vai a zappare Erba mezza per due Ma qui poi Diciamoci la verità Tempo di cadere Ma è tempo di cadere davvero? Io non sono mai stato lì Non è una gag Ragazzi dopo dobbiamo Ricordiamoci che voglio esplorare lì Quello è veramente tempo di cadere Ale Due colpi adesso duri Tu Ah la tendenza La tendenza Ben ben cosa sto facendo Un motivo in più Ok è andato Merda la tendenza La tendenza Cosa starà diventando questo mondo Eh E botte vere Ecco perché quello stronzo mi viene così tanto Comunque Magia Adesso è il momento di fare con grandissima prudenza Come fosse una boss fight Che è abbastanza simile Una mid boss fight Perché non può continuare così Ho bisogno di quelle anime Porco Porco No sono qui Merda Le anime invisibili le fanno tra l'altro Ok No No mi stavo parando Vaffanculo No No sono rimuo Io non ci posso credere No Dario E allora Te lo fai te direttamente Finiscilo Che cazzo No non voglio gli item Vorrei farlo io Grazie Ti ringrazio Allora Allora Terramente Bomba a incendiare Merda raga Comunque ho un rapporto vittorie sconfitte Con il tizio con gli occhi rossi Tipo di 1 a 5 Mi ha veramente ammazzato Un sacco di volte Erbe crescenti Bella lì Allora Allora Io manco t'avevo visto Ti dico Per dirti Allora Anime tante in ballo Tante anime in ballo Si è schiatto qua e drop Questo è l'emico del drop Ragazzi Quanto fa anche a gare le rotolate Mamma mia Devo stare calmo C'erano due erbe calantis Come sempre Come sempre Come sempre Bene Adesso giro Se vede che prima L'ho beccato di strisce Dai 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 Erba 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 Lotto del soldato Che cazzo serve E poi non mi ricordo Ragazzi è una cosa figa Ok Ok Ora seri Ora seri È un boss È un boss Non va preso sotto gamba Devo recuperare le anime Però Devo farlo venire in qua Devo farlo assolutamente dopo No Ma i danni che mi fa Dove sono le anime Ma recupera queste cazzo di anime Dio Ma Cristo Merda Non è possibile Non è possibile Guardate la folla Delle grandi occasioni Che arriva A farci la festa Si fa prima così Effettivamente Sono totalmente Senza parole Devo smetterla di pensare Di essere diventato Abbastanza forte Da giochi chiare Coltizio con gli occhi rossi Cioè dentro di me Non sto ancora sottovalutando Io sto muro Io sto muro E vai E vai L'input dell'occo Ovviamente l'ho dato Ma è stato Bevuto dal sistema Sempre tutta colpa del sistema Ricordate Anche qua Quando pare a lui Ok Sono basito Erbe canante Per due Oh se non altro Erbe anime Ne sto facendo Vediamola così Però le anime Non le faccio Finché non ammazzo Il tizio con gli occhi rossi Anzi È più probabile Che Lasciam per Non voglio neanche dirlo Non voglio neanche dirlo Non voglio neanche dirlo Allora Seri Ah seri E tra l'altro Scusate una cosa Questo non fa danni da fuoco Tipo 29 Perché ho Dei super pantaloni 23 22 Perché stivali rotti Perché stivali rotti E Forse posso addirittura A mettermi qualche cosa Quindi 25 25 E 9 Purtroppo niente Però posso mettermi questi E forse Nient'altro Va bene No Forca trota Le anime Ma io premo Ma cazzo Merda Porca miseria Fammi I danni Vaffanculo Veramente Basta Me ne vado Me ne vado No Non voglio scappare Però lo voglio affrontare qui Così almeno se schiatto Piglio le anime E vaffanculo Da quando L'avevi caricata Vaffanculo Bastardo Erba piena per tre 2000 anime Mi ha dato E adesso Facciamo quella cosa esplorativa Nuovo contenuto Che delirio Che delirio Che delirio Che delirio Che delirio Eh ho visto King Pay Ma io toglievo lo scudo Però chiaramente solo per un istante Con la paura ovviamente Di fare una brutta fine Vabbè Se perdo 9700 Quale posso recuperare Easy Ehi Che santino Non sono mai stato qua Congratulazione Grazie Qui cosa c'è di bello L'oggetto supera Quadrello e balestra Ma bene Ma bene Ma proprio morivo Dalla voglia E tu Merda Basta Sta mossa Ma proprio Tutto qui Questa era la bazza Quadrello e balestra Ma dai Ma dai Sai che cazzo Mi ero immaginato Ehi Questo era un saltone Non c'è nessuno qua Vabbè Farò altre anime Muovendomi qua dentro Ok Va bene Speravo in qualcosa di figo Accidenti Oh Di proprio con la punta Della punta La ci sono già andate Sì sì ma Non diciamo sciocchezze Sta roba L'abbiamo già fatta Ok Va bene 9800 anime Opterei davvero Per la stamina Forse ancora Forse contro il tizio infuocato Riusciamo quindi a questo punto Chi lo sa Frecce in arrivo Muorici Bravissimo Allora Andiamo 9009 Credo che sia un livello Abbondante Un livello Beffardamente Abbondante Nexus Cosa potremmo fare Tenderei ancora Ad andare di resistenza Se abbiamo la possibilità Di metterci ancora Qualcosa addosso Anche la forza Però è tanta roba 52 26 4300 5009 Non voglio buttarle via Queste anime Non è C'è un vendor C'è un vendor Di erbe In tutto questo Esiste un vendor Valido di erbe Che io posso Andare a visitare Qualcuno che mi dia Che mi dia qualcosa Di Di utile Anche solo di erbe Di secondo livello Il fabbro Nel secondo mondo Nella forgia Il fabbro Nella forgia Solo quelle base Posto Bene Mi servono delle anime Mi servono circa 2000 anime Mi dispiace dirlo ragazzi Ma Sei tu No? Sei tu Quello in due In 1.2 Ah in 1.1 Quello che si raggiunge Vende le erbe mezze Ci andiamo subito Ci andiamo subito Allora Ragazzi non ho capito Dove devo andare Scusatemi la franchezza Ma dove si trova Il mercante Perché qua c'è una scritta Benvenuto dall'altra parte È che non accetterei Di perdere 4300 anime È una roba Veramente Pesante Da pensare Da rifletterci sopra Io spero che il tizio rosso Il boss Sblocchi Quello che faremo qui Quindi cavalieri blu Facciamo sempre la stessa gag In 1.3 Non è una cattiva idea Non è una cattiva idea Anzi è un'ottima idea Sì 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 Avete ragione È una bellissima idea Ottimo 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 Siamo a 4300 Vogliamo arrivare Diciamo a 6000 Scudo del cavaliere D'erba mezza per 2 Mandata anche quella al deposito La cosa sta iniziando A diventare sinceramente pesante Cos'ho che pesa Una marea di roba Spada lunga del drago Che non uso E invio a deposito La frangimaglia Che non uso La frangimaglia Che non uso Lascia che non uso Lascia che non uso E anche questo Che non uso più È ora di liberarsi Di un po' di robina Perché se no Le faccende diventano Un po' pesanti Da accettare Psicologicamente Vieni anche tu dai E i danni Tra l'altro Allontaniamoci Dalla zona frecce Ok Ok E siamo a 5100 Un po' Urca Madonna Che ancora un po' Ci schiatta Ok Vabbè Lo devo fare Un'altra volta In mezzo Mi raddrizza Vediamo un po' Cazzarola Era ancora vivissimo Non posso Non posso permettermi Di usare Erbe Per fare niente Proprio Triggerati 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 Abbiamo il livellino Dobbiamo fare Dei conti Di armatura Allora Facciamo i conti Di armatura Importanti Pensiamo al boss Che dobbiamo affrontare Di cui Ci interessa La resistenza Da fuoco Ma la tua è eccezionale Ma la tua è eccezionale Ma perché cambiare Armatura Tu vai benissimo E' qui che mi servi Idealmente Ma non posso Posso arrivare A 26 No Quindi niente più Resistenza Gli anelli Per di meno PF Questo Abbastanza importante Però abbiamo Quello dei drop Che non ci interessa Il peso massimo Degli oggetti Resistenza al sanguinamento Resistenza al veleno Resistenza alla pestilenza Ma di quale manca? Cosa manca? Sono tutti Completamente inutili Sì King Pain Proprio così Vabbè Grazie a tutti Non è che lo sto usando Tanto il telescopio Non l'abbiamo ancora fatto Delle osservazioni A questo punto Che è qualcosa Sai che queste le inviamo Queste le inviamo Ma chissà Se abbiamo ancora Delle combinazioni Da provare Portarle con noi Non è male In linea di principio Comunque Non mi interessa più Resistenza Vai Vitalità È una cosa importante Tra l'altro Influisce sul peso complessivo Perché comunque Qualcosa conta Resistenza Non ci interessa più La forza Qualche dannino in più E le difese varie Tra cui quella da fuoco Ma anche vitalità Dovrebbe modificare Esatto Farò vitalità Farò vitalità Oh Bene Rimango con 95 anime Che è la giusta quantità Di anime Per andare a morire Perfetto Facciamolo Calma Facciamolo e basta 10 9 Vaffan... Mi ha praticamente ammazzato A volte si passa A volte no Ma non è l'unico Ma non è l'unico punto Che fa così Devo già usare delle erbe Au Lo devo fare Au Andate a zappare Ecco Non hai perso la speranza Vedo Oh Vivo ancora Sono Come cazzo Ho fatto a morire Pietro Voglio passare Voglio passare Cazzo Ma cosa l'occhi Porca minchia Porca troia O non morire O non morire Cazzo Rischiato Inutilmente Ma poi prima Non sono morto qui Ma non importa Ero morto cadendo Allora Dove era la caduta Era questa È segnata Di fatto De facto Che fatica Per fare un altro try Ragazzi Un altro try Ora morirò Consumerò tutte le erbe E io non so che cazzo dirvi Cioè onestamente Dopo che cosa cazzo Devo fare Farmare di nuovo Non esiste Ma proprio Non esiste Che cazzo Ci si butta Pd Certo ti metto Una certa urgenza Di ammazzarlo Insomma Certo ti metto Orca miseria Ma ce l'ho fresco Era un minuto fa Vero È cattivo Pesta Bisogna stare molto attenti Rotolare Non serve A un cazzo Non so che può Sembrare assurdo Ma è vero Bella la resistenza Al fuoco Che ho pimpato Si vede Bel risultato Ma no Basta Ma che bella resistenza Al fuoco Bella la camera Grazie Ma Basta Mi sono veramente Rotto i coglioni Ragazzi Non è possibile Vorrei andare verso di lui Quindi è logico Che ho premuto avanti Ma lo devo assolutamente Togliere un secondo prima Sennò darò un pugnetto Del cazzo Devi credere di essere già La distanza giusta Non bisogna più Piramela in avanti Basta Devo credere di essere già lì E basta Mi fermo Brucio Ovviamente Perché non lo devo toccare Ma lo devo toccare No vai A fare in culo Va No vai è rotto merda sta stamina sei lenta ripeto come è evidente non è una boss fight difficile ho premuto in avanti è il peccato capitale ragazzi ho rotolato, questo mi porterà a morire eh praticamente si NO! basta sta cazzo di cosa paura che succederà una gag a un certo punto mi troverà con le erbette verdi speriamo di no speriamo che non succeda con tutte quelle cose che valgono un drop di gusto proprio ecco Addio Basta Levati da lì Ma morire per una cosa del genere Hai danni che gli facci Assurdo Assurdo Rialzati Cristo Usiamo un po' le colonne Magari è una cosa intelligente Se si slocca però bestemmia Non vedo Non vedo Mamma mia cosa ho fatto Che idea è stata Mettere in difficoltà la telecamera Con delle colonne Ma che idea posso avere avuto ragazzi Andiamo via dalle colonne Che dopo non si vede un cazzo Mostrami il culo Sembra assurdo dirlo a un mostro del genere Però vorrei vedere il tuo culo Grazie Fai una cazzata Per piacere Fai una cazzata Fai una stronzata Grazie Insomma poi Poi non è necessario Colpirlo dietro È solo per dire C'ho una colonna Sono morto Incredibile Sono morto veramente Mi ha graziato In un modo incomprensibile Ingiocabile Porca puttana Porca puttana Non si vede un cazzo Dio Ho una quantità di sudore Su sto cazzo di controller Che ormai mi sguilla tutto Ho tenuto tantissimo Di avere la freccia in avanti Sprecata un po' Questa erba Ma cosa devo fare Non è neanche a metà Non è a metà Poco più di metà Dio Gli ho dato di nuovo Il cuccio Cuccio è una spinta A Bologna Non so poi se in italiano Si usa È anche un tiro di sigaretta Forse cuccio è una spinta in italiano E un tiro di sigaretta a Bologna Fai dare un cuccio Fai dare un tiro Però vedi Tiro Vabbè Tiro Spinta La vita Ho sbagliato Eh ho proprio sbagliato Bevi stronzo Bevi stronzo Catroio Basta Basta Dio È totalmente rotto Il cazzo Eh però mi stavo parando Cazzo Avevo lo scudo alzato Che schifo di boss fight Mamma mia ragazzi Fa veramente cagare Credo che sia apprezzabile Quando arrivi forte il giusto Perché dura 5 minuti In senso metaforico Molto meno di 5 minuti Questa boss fight Serve di forte Dura un secondo Sono morto Vaffanculo vai Non ci posso credere Non ci posso credere Non ci posso credere Finisco l'erba Erba è finita E droppo il gioco Non è una gag Sono veramente rotti i coglioni Scusate ma Però non ho capito Il senso Di sta rottura di palle Anche perché Del gioco a livello di lore Non ce ne frega un cazzo Quindi in realtà Stiamo solo a combattere Con dei boss di merda Dio sporca troia Muoviti Dove cazzo Mi devo buttare Adesso di qua Sì Sì Ci schiatte No Che lentezza Mamma mia Che lentezza Ogni cosa Dove cazzo È la piattaforma Vaffanculo No Sono morto Almeno non ho Sprecato erbe Direi Almeno non ho Sprecato erbe Passerò O non passerò È la volta Che non si passa Ogni tanto si passa Ogni tanto no A suo gusto Dove cazzo Di qua Poi di qua No Vaffanculo Oddio Beccati le zero anime Allora Vogliamo starci Su sta cazzo Di piattaforma Ma guardano Ancora un po' Oh Dove Cristo Che gameplay Ragazzi No Usa la scala Ti ho vista Ma ti ho persa Dove è il buco Lì Telecamera Meravigliosa Facciamo una cosa Per evitare Le bestemme brutte Anzi Anzi Cominciamo con le erbette Stronze Stronze Hai rotto Adesso Ti do solo Singole spadate Ma lo scudo Alto Ma come cazzo Hai fatto A colpirmi Maledetto Stronze No Questa volta Ce l'ho basso Hai ragione Maledetto do singole spadate sognando di fare una run un tentativo con un po' più di stamina è l'unico motivo per cui sto facendo così e comunque ogni spadata consuma togliamo una componente di frettolosità oh no là ci sono le colonne volevo andare di là ma là ci sono le colonne è la fine se ci avviciniamo alle colonne non possiamo più giocare ah potessi stargli sempre dietro no vecchio mi stavo curando ah non è neanche un'erba che mi fulla in realtà oh c'è ho basso di stamina porca ma levati dal eh zio basta sti cazzo di danni da fuoco le abbiamo dato la spintarella siamo contenti che le abbiamo dato la spintarella ah non so se curarmi cerco di risparmiare le erbe perché purtroppo dopo non potrò più giocare e quindi va mi cura ma oddio chissà che cazzo com'è se lì c'è l'oggetto per ammazzarlo in 5 secondi dai dettacca me lo aspetto come mi aspetto una telecamera di questo tipo oh no oh no oh no è finita no no me ne devo andare da lì sono due i boss c'è lui e la telecamera soltanto uno di questi due è imbattibile no vabbè non ho stamina per ma vaffanculo dai com'è se subisce tantissimo di affondi e devo solo fare degli affondi uh è vero tra l'altro si li subisce oh allora glieli faccio ottimo tra l'altro non rischio neanche di fare la pacchettina del cazzo ho imparato una cosa che cazzo sta succedendo qua devo stare attento a dove metto i piedi ovviamente no vabbè ovunque la lava fai qualcosa di sbagliato non vedo un cazzo e muoio no mazza buono a sapersi è meglio saperlo prima ma va bene anche così forse il mio output di danni non è adeguato inizio inizio a pensare proprio di essere venuto qua che non era il caso di venirci no 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 andiamo da un'altra parte ma non esiste è troppo 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 poco il danno che gli faccio non ha proprio senso andiamo al terzo mondo il terzo mondo andiamo qua andiamo com'è sto cazzo di livello qua mi affacciai all'epoca ricordo vagamente questo inizio dell'area ma niente di che ah e qua l'ho visto ci sono i i cosi i lovecraftiani come cazzo si chiamano gli elitid congratulazioni questa è una gag immagino guarda la telecamera guarda lasciamo perdere lasciamo perdere che non è veramente il caso e voi? vi avrei liberato e invece? peccato per il drop triste abbastanza dove è lo stronzone? eh vabbè allora ragazzi dove sei? dove sei? ecco vi prego aiutatemi c'è proprio una voce bello ragazzi non dico niente spezia fresca io vorrei delle erbette ragazzi questo è bestemmia finale no anima di soldato famoso che ci fa molto comodo io erbe sono messo così questo che cosa? cosa fa la spezia fresca? ah beh in realtà fa una cosa molto importante poco importante per noi qua c'è qualcosa che brilla e sono prigione delle speranze chiave CLP3 quindi devo stare molto attento a queste cose che sbrilluccicano eh leggi iscrizione prima piene tra dovrò fare caso a tutto questo però scarpe del mago guanti del mago essere magari tanto per rosicare un po' di più che non ho fatto il caster in teoria posso qua posso anche aprire mazza mi prego aiutate scheggiati non è un posto da erbe questo vuol dire che ci potremmo stare poco qui perché noi abbiamo un bisogno enorme di erbette qua cosa stiamo combino cosa stiamo lo what ah io sono partito da qui ma che sciocco scusatemi ma che cazzo vediamo se abbiamo aperto tutte le celle forse anche questa possiamo aprire non abbiamo la chiave giusta e dietro c'è una nebbia quindi short magari una shortcut umana per andare facilmente a un boss che lo so proseguiamo facendo attenzione a chiavi che sbrilluccicano e pensando ad aprire celle scusate forse ne ho schippata una abbiate pazienza ok entriamo io non sto cercando non mi sto fissando con i muri illusoria pace pace però figuriamoci quanti potranno esserci allora ciao pace l'ambientazione è molto bella cioè comunque Bluepoint ha fatto una roba allucinante è vero che chi come me ha un ricordo molto vago del gioco del 2009 non gli si non gli si sbloccano i ricordi perché era veramente diverso visivamente molto diverso e quindi è tutta una novità in realtà quindi gli Illitid non appaiono dal nulla spero speriamolo sto proprio a sfregio per farti consumare delle cure anima di soldato famoso che ci ha lasciato la pelle qui fego e poi qua abbiamo esaminaresti scheggia di pietra mercurio proseguiamo ok questo qui ha combattuto quindi qui si combatta questa sarà una cosa sbagliata però io non riesco a non farlo tocchiamo la macchia di sangue che hai combinato tu è venuto qua lo stronzo via dietro l'angolo tipo la domanda è sempre quale angolo ci ha percepiti ok spezia fresca maledizione non stiamo avendo drop utili a niente però esamineresti scheggia di pietra mercurio tempo di perforare ah per i cosi si 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 prova mani nude che sai di ho sbagliato che cretino lasciamo perdere lasciamo perdere la cazzata che ho appena fatto prova attacco normale ma che cacchio c'è un muro invisibile ma perché mi dici prova attacco normale se non c'è un muro invisibile ma perché mi fa sta gag tanto dovrebbe bastare la rotolata no 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 il boss che ha battuto me non basta la rotolata non basta rotolare per trovare i muri invisibili quindi devo andare di spadato sti cazzi frega guarda sotto si grazie mamma mia anche ste cose veramente lì si può mettere i piedi la domanda e lo vogliamo fare adesso facciamo un po' di esplorazione prima però questo è interessante prima di aprire qua vorrei far fuori l'illited che chiamo così per semplicità ops serve molto lo scudo vero ok le celle non sto neanche guardando bene il discorso chiavi tiara sarà sicuramente una cosa da maghi però mi interessa una corona su questo oggetto il cortevo passa di mano in mano fra i famosi maghi della potente famiglia Yormedar è imbevuto in uno speciale incantesimo che aumenta i pf massimi inco what cosa cosa fa come davvero really ci sono un bel riassuntino di cosa fa però in ogni caso credo che possiamo permetterci di indossarla una cosa così leggera rimaniamo a 25 facciamolo perfetto ora proseguiamo di qua che prudenza veramente eccessiva loto della vedova resta lì resta lì resta dove guardo solo se ho aperto tutte le celle poi proseguiamo direi di sì qua è magico tutto no è la scritta che lui ci ha messo sì sì dopo faremo quel salto della fede però facciamo le cose con calma anche perché se le chiavi fossero messe sempre nello stesso posto ma non è così che è così io faccio sta cosa non so neanche perché la faccio mi ispira guarda davanti grazie si ha un po' sta cosa da da quel quei consigli proprio che dici sì ma d'altra parte non puoi dire alle persone cosa consigliare allora tu schiatta tu schiatta babì arriverà un illiquid bastardo dio ed attacca come farò quando dovrò curarmi considerando che non ci sta droppando un'erbetta neanche a piangere scheggia di pietra mercurio bene ah beh è proprio l'andare avanti quella caduta quindi mi anche spoilerà ti toglie proprio il gusto di scoprirlo da solo allucinante quindi lì bisogna guardiamolo da questo lato aspettate esatto gargoyle brutta gente ma fa un po' da un po' da pensare a dire il vero è vero che esiste anche qualche volta l'evenienza di scavalcare roba a dire il vero c'è una porta che noi non siamo riusciti ad aprire ad essere proprio sinceri quindi in realtà aspettate esatto prison of hope in realtà noi possiamo scusa possiamo provare a fare una cosa dove c'era quella famosa nebbia chissà che non sia ma parte che ma sono stato esplorativo ma sì chissà che non sia apribile adesso voglio fare un tentativo penso che mi dirà picche ma è qua che si sente la voce che dice vi prego aiutatemi si sente una parola grossa però la si legge allora tecnicamente sì facciamo le cose normali ho fatto un errore in realtà l'elisir era buono nella boss fight ripresa perché a parte il pm in realtà per quello che userò io questo oggetto così dopo mi posso anche curare nel caso comunque sia vediamo cosa c'è di qua quello che purtroppo abbiamo appreso prima dall'illited che ci ha colpito e che parare non serve magari qualcosa serve ma non ha tanto e in degli spazi così stretti è un problema dai vieni attacca mentre si dispera per la sua amara sorte certo un po' fatta con lo stampino quest'area bellissima ma tende un po' ad assomigliarsi tutto vediamo un po' qui bene ma è ampia questa vergini di ferro torture medievali peso bello mamma mia figo qua in teoria qualcuno è dentro no? l'anima di eroe è sconosciuto che è schiattato così io non ho purtroppo strumenti per tirare giù la gente buon divertimento con prigione apri ok pietra dagli occhi effimeri figo andiamo dove è il prossimo illited? questa è la domanda che più mi assilla vorrei uccidervi prima capite? vabbè non si apre peccato 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 ci vorrà un'altra chiave vado con prudenza perché sono nemici importanti belli questi lampi guardate wow wow bello dove siete? perché ci siete non può essere così tranquilla la situazione me lo locchi? me lo locchi? vieni vicino vieni vicino non me lo locchi a zappar me lo potevi loccare mi semplificavi la vita ma figuriamoci diffida di un nemico nascosto ma non era poi così nascosto ma ora vorrei diffidare delle chiavi che non ci sono e questo complica le cose parecchio iniziamo ad essere a corto di chiavi e tu? e voi? non sarà così banale ehi basta non vedo facciamo così lotto del nobile le prigioni dei nobili dovevano essere spezze cioè figo per carità cosa è rimasto? fai attenzione ai nemici pesissimo da qua uniamo Zelda a Dark Souls bene nascono unite in realtà ok proseguiamo scusa un secondo leggi messaggio ah beh questo qui grazie per la lettura ogni commento è superfluo ma che area scarsamente densa cioè boh strano quasi quasi una probabile caduta da avanzamento lo scopriremo e qua c'è l'andare avanti quasi sicuramente chissà chissà se quella è una caduta sensata lo dovremmo vedere dall'altro lato qua si prosegue mi interessa capire se queste cadute possono avere un futuro mi sembra un futuro di morte quindi facciamo le cose semplici stiamo volutamente facendo le cose semplici evitando tutti i passaggi più succosi apri questo è vivo no l'effetto sonoro stivali neri guanti neri abito in pelle nera maschera dell'assassino bene apri e qui abbiamo anima di error sconosciuto mi sembra non sono in grado di tirare giù quegli oggetti purtroppo fai attenzione a prigionieri quindi qua si incazza il tizio che esce non so come faccio ad essere vivo da dentro la vergine di ferro ma facciamo attenzione in realtà siamo invullerabili durante l'animazione vabbè c'è andata bene ecco era proprio una cosa che desideravo accadesse ed era questa la smetti com'è il veleno com'è il veleno una brutta gag no dai non può essere eterno non può durare così tanto non può durare così tanto ah il loto cura dal veleno ok ecco perché ci ha dato tutti questi loti ok il loto inizia a diventare un oggetto più interessante del solito e del previsto la suedo se ne ho con me ma temo di averli lasciati praticamente tutti alla maison ah veleno pestilenza sono due cose diverse ahiaiaiaiaiai qua il tutorialino che ti fa no porca miseria è bello come ci sia in realtà un grande bisogno di erbe ma questo livello non le fornisca e quindi te la pigli in saccoccia ma qui c'è una bella chiave doppia forse riferita anche al passato questo lo vorrei verificare questo è abbastanza da verificare abbiamo lasciato una cella da poco che era interessante mi sembra mamma mia mi sembra di ricordare una cella che non siamo riusciti ad aprire direi di qua era più avanti era dopo quella densamente popolata la telecamera ragazzi è una cosa questo è l'andare avanti ma qui allora forse c'è uno ma dove Christian de Sica era era prima era prima sono abbastanza sicuro che ci fosse una cella chiusa banalmente questa porta banalmente si fa per dire questa porta ma secondo me accide ma me lo sono sognato che abbia lasciato una cella chiusa eh no era questa scudo per piacere river guardate 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 è bello però penso purtroppo non è tempo di pietà è abbastanza spaventato l'idea di essere avvelenato ovviamente artigli è tutto un modo di fare corpo a corpo a pugni diciamo pugnale segreto un grande calma un giorno capiremo di che si tratta triste a questo punto noi abbiamo un affaccio esterno succulento ma vorrei finire di capire quell'altra area certo che sono tutte uguali queste sezioni potevano fare un briciolo di varietà noi eravamo arrivati qui abbiamo trovato le chiavi là ma era finita la gag non credo in ogni caso vorrei essere esplorativo non mi ricordo assolutamente porca miseria sono tornati all'inizio ok va bene va bene va bene ma non eravamo io non ricordavo di essere salito invece da qualche parte c'era una salita che io mi sono totalmente perso ma questo sì confermato questa è l'area di prima saliti dalla porta iniziale sì 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 ok ok dobbiamo tornare indietro chiaramente e quindi questo significa che il percorso finisce lì e bisognava andare in esterna va bene l'importante è che si capisca quello che sta succedendo ho detto una cosa esagerata non sto capendo una fava maledizione di qua questa quindi spero che sia l'area iniziale tutto già aperto spero Dio santo spero veramente di non aver e andiamo a risalire ecco bene quindi qua esisteva una salita esatto c'era una scala non avevo fatto caso a questa cosa con la dovuta attenzione quindi adesso siamo dove eravamo abbastanza di recente ma non così di recente però abbastanza di recente da sapere che dobbiamo andare là fuori perché di là poi si cade che casino ok sono quelle aree sono quelle aree che quando le conosci alla prima volta sono veramente disorientanti qua c'è qualcosa noi ci curiamo con questo trick spezia più più magia ma non è proprio il modo ideale però è lo stesso scusate io devo guardare sia fuori che dentro ma c'è un gran vento tra l'altro nel mondo reale in questo momento luna questa si deve aprire se no idetaka dove sei illitid non mi far fare dieci chilometri maledizione te e chi non te lo dice ok che mi fai schippare roba allora siamo entrati qua ci siamo affacciati abbiamo guardato leggiamo la scritta sei inutile è un po' il senso dei souls allora che poi non è vero qui no 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 niente chiavi qua e no niente chiavi neanche qua evitiamo di fare battute sulle chiavi oh ma come ah esattamente da qui che siamo entrati ok con grande calma perché mi sembra così strano questo ritmo di quest'area what allora lei è un NPC importante dunque no 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 cazzo non lo fare di nuovo scusa non vuoi combattere vero sei una vendor vero perché presumi il mio gender con la tiara magari potrebbe interessarvi la mia collezione ho conosciuto giorni migli una volta ero moglie di un con la tiara parliamo prima prima ah sarebbe stato bello sentire il doppiaggio originale comunque è una delle storie iniziali iniziali beh hanno già finito di nutrirsi da un pezzo mi sa ripetendoci che se andiamo di sopra sarà concessa la redenzione di sopra c'è una boss fai pesissima e qual'è? la dea della chiesa può morire ma mai a lungo ma mai a lungo siamo intrappolati qui sotto per sempre la redenzione non esiste affatto penso oh no i prezzi no i prezzi i prezzi 50.000 però i prezzi sono inaffrontabili gli do 1.300 per un'erba piena beh che queste 2.800 anime che ho con ogni probabilità le perderò però prima o poi incontreremo dei nemici forti quindi per follia che possa sembrare lo faccio e prendo anche un lotto del nobile anzi più di uno in realtà riempiamoci di lotti del nobile e va bene sono acquisti folli però ora sono più leggero me ne frega niente delle anime che ho addosso e va benissimo così è così che deve essere era sembrato di vedere qualcosa dentro quella lo sono sognato va bene va bene va bene va bene creepy 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 e questo però non lo chiamiamo più un proseguire questo lo chiamiamo un andare a zappare ma allora se lì è andare a zappare il proseguire tu mi insegni dovrà essere da questa parte ma forse quello non è andare a zappare perché quella non è la stessa area di prima oh sì che casino beh se non avremo altre strade ehi ma qui c'è la folla delle grandi occasioni e staccati voglio farti un affondo in relax grazie puoi perpezzare vabbè talebbe bello capire cosa succede ma non è non ci è dato ovviamente il pensiero è solo di non sprecare roba sbaglio a loccare mi è partito un backstab proprio in questo momento qua il caso regna sovrano com'è giusto che sia cosa mi dici tu grazie dovrebbero passare a ripulire queste stranzate allora io come sempre non posso tirare giù roba e questo è un grande malus perché non ho balestre non ho magie di sparo non ho peraltro un cazzo comunque sia inizia ad essere ora di fare così e così tra parte questa cosa parte in quest'area qui quando mai la faccio ok quindi questo è l'andare avanti questa è la nostra direzione occhio agli illited come li sto chiamando illited sono gli illited no in dnd mi sembra di sì scusa tocca macchia di sangue perché mi incuriosisce come sei morto tu ma che morte è complicata secondo me quella caduta esploriamo il corpo umano allora cella esterna o in realtà non tanto esterna mi sa di senso cella in teoria in teoria tanti bonus o tanto veleno porcaccia porcaccia miseria è unavoidable non per tre volte ok va bene anime lei ha un sussulto quando apre anello della magia fa anello della magia la forza incantesima indebolisce difesa da magia per chi è un po' avido da quel punto di vista lì mi sa che ho usato uno di quelli fighi ma non ha nessuna importanza infatti devo usare questo ma non importa non importa non siamo maghi quindi non è questo è l'andare avanti è un po' impegnativa la faccenda sto già pensando nell'ottica di dover ripercorrere abbastanza un delirio si scende va bene ci vorrei una delle belle shortcut mia zacchiane che tutti noi tanto amiamo ma sento che forse sta per arrivare siamo dall'altra parte di qualcosa che avevamo visitato prima esatto qua forse c'è adesso un attimo degli affacci leggi messaggio dopo perché è sempre c'è un MPC quindi abbiamo degli affacci un MPC e in realtà un cadere nel vuoto che è una novità per noi qui lasciamo l'MPC dopo vediamo che cosa c'è qui non mi fido ma che palla sta cosa bello dai ma dai però a cilindro colpisco di brutto beh lo potresti far cadere ma davvero non cade non cade quindi io non posso farlo cadere va bene è rimasto lì allora MPC che spero simpatico amichevole e foriero di bazze non sarà facile liberarlo a questo punto abbiamo due strade una è cadere in basso che secondo me è quasi un suicidio potrebbe essere proprio un suicidio ora non sapendolo avendo una scala che scende faccio parmiare la scala piuttosto che buttarci no? attenti attenzione battaglione qua si apre va bene potevo parlare da fuori uh scusate in effetti era una cosa da tentare proviamoci perché è una cosa interessante è qua siete forse umani io sono Freak è famosissimo è personaggio storico hai una voce inquietante eh sono un un picchiatore adesso me lo dici me ne ho già incontrate la cosa che mi forse io non so la cosa che non mi sconfinfra conoscendo i Detaka è che finora abbiamo affrontato gli Illited sempre uno a uno dov'è la folla di Illited che sicuramente sta per arrivare? è questo che mi spaventava dal minuto uno vedo delle chiavi magari serviranno subito porca miseria sono un po' preoccupato destra sì sì ma con calma con grande calma vorrei aprire anche qui niente questa è una cosa grossa importante potrei già avere la chiave per il nostro amico e forse è una cosa da fare estremamente importante sto già pensando al fatto che è strano che io sia ancora vivo dobbiamo essere in pericolo a breve e non funziona e quindi tutte le cose importanti le dobbiamo fare adesso anche quella caduta nel vuoto là probabilmente era importante destra che può anche voler dire pericolo a destra una gag più brutta dell'altra destra Vets ma io ho capito destra o ho schippato ho schippato delle frasi delle 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 chiavi eh no secondo me no e infatti questa si apre qua c'è del backtracking da fare per lui e per le porte rimaste qui ah nebbia oddio ma è lunghissimo oddio ma ragazzi arrivare qui ah forse mi indicava la chiave ragione Federico che shock e il fatto che ci vorrebbe un'arcipietra ma non hai un'arcipietra senza un boss arrivare qui è lunghissima è complicato e mi sembra adesso che ho fatto tutto in una volta magari in realtà è una cagata ma mi sembra una roba allucinante tornare qua ma cosa significa allora voi se siamo in pericolo stringente non siete usabili al volo alla peggio metto persino questa ok ok il cazzo però comunque è ancora area di gioco tempo di perforare quindi il litig da questa parte me ne pentirò oddio certo ne abbiamo affrontati tanti in teoria ragazzi si fa ti prego non essere stronzo no no eh ma ho sbagliato io ho sbagliato io perché mi sono ingannato pensavo fosse molto più vicino e quando mi sono accorto ciao anche perché non possiamo non posso fare niente allora non deve essere difficile deve essere fattibile non può essere difficile non può essere lungo si sale qui si va alla finestra va da memoria non avrei dovuto dirlo questo schiatta no 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 incredibile a dirsi ma quanto è più vivibile o bloodborne cioè non c'è un paragone cioè bloodborne o dark souls 3 che è per quanto molto difficile in realtà sono molto più vivibili come giochi devo fare il doppio colpo comunque ma devo ricordare sta cosa se no non si va da nessuna parte no no locca o schiva o schiva o fai qualcosa schiva schiva no ma che cazzo fai ma chi sei no no vabbè vecchio ti stavo colpendo vivibile nel senso che queste robe qua non c'è cioè è più non voglio dire più facile però a meno di ste cose stra old school ma stra old veramente cioè sembra di stare giocando a goals e ghost che non è proprio il mio genere preferito me lo danno un bel po' di anime a pensarci perché uno vorrebbe tra virgolette abbi la stamina grazie rushare ma io non mi ricordo già più non mi ricordo già più dove devo andare ragazzi ma è un illitid che mi stava sparando è una gag spero non mi ricordo più che strada devo fare non me lo ricordo dritto dai drì ok quindi va bene così 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 siamo giusti siamo giusti siamo giusti di qua sono le porte che ne tanto non posso aprire verifico ma ovvio ok siamo dove eravamo morti la prima morte più o meno mi sembra ah ok lì sono andato a fare lo stronzo la scritta mi diceva vai di qua chi sono io per darle torto tocca macchia di sangue forse è stato inseguito qua si apre forse una bella shortcut forse questa è una bella shortcut quella è una palla di cadaveri quella è una palla di cadaveri dove è che l'abbiamo già vista dove è che l'abbiamo già vista la palla di cadaveri oltre che in un gioco che farei spoiler dicendolo era in bloodborne era in bloodborne giusto a dark souls 3 dark souls 3 giusto 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 però questa è casta la palla di cadaveri che è casta non so cosa pensare mi infilo qua chiudo e sto qua dentro non mi sembra un posto più sicuro adesso noi la dobbiamo sconfiggere cioè non è non è che ci siano dubbi però sono perso no dai per una volta non troppo l'allineamento cosa dice non vedo illitid voglio stare molto attento però è chiaro che la palla di cadaveri c'è un percorso dietro la palla l'ho visto ma cerchiamo di farla safe niente chiavi strano questo posto prezioso bottino più avanti mi fa piacere ma questo posto è strano invece bracciali detti d'argento più cosa che devo inviare a deposito scudo gocce gambali tutta un'armatura elmo scanalato quindi questo è buono per noi probabilmente possiamo fare dei test per vedere come riusciamo a pimparci il che è cosa buona e giusta chissà che non sia un prezioso tesoro anche questo no però vanno sempre bene le anime la qualità di anime che troviamo mi fa proprio pensare che questa è una cosa da fare proprio prima del demone di fuoco del fiammeggiante cioè bisogna accrescere ma bisogna un po' mettere il piede dappertutto scusate non ho controllato se c'erano delle chiavi appese ossia ho controllato e non c'erano non c'erano neanche l'appendichiavi ok ok statua statua aia telecamera non farmi soffrire più del dovuto per piacere dove diavolo è? la palla non mi piace sta cosa non è una cosa piccola ah cazzo è lì le giare le lasciamo stare odio la consapevolezza di stare per schiattare tipica dei souls lo so che sto per schiattare e c'è una nebbia dietro? no 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 è un oggetto forse là la nebbia scappa gestibile? accidenti ho delle cose sbagliate qua beh la paura della palla di cadaveri mi ha fatto fare un'esplorazione fatta bene nooo creti vabbè ci stava a curarsi porca miseria il senso di ammazzare sti tizi non c'è non rischiare di avvelenarci stupidamente però mi mollano una scheggia di pietrano qui sei al sicuro ma insomma ah dice dalla palla forse perché forse ci si poteva girare intorno pd quanto è grande sta zona prima di darti dei veri punti di riferimento però eh forse quello è il rasciare intorno alla palla quando si schiatta e si torna qua sta diventando un po' grande quest'area a ben vedere sono certo di non averla esplorata tutta di aver lasciato indietro robe probabilmente cadute che avrei dovuto fare ma che dire pazienza direi pazienza vorrei mettere in saccoccia qualcosa da questa esplorazione che non siano queste 1900 anime che sto per perdere guarda la gente c'è schiattata vorrei sapere come Illited non mi sembra di vederne è un po' che Idetacca non fa delle sorprese siamo scesi ce lo ricordiamo trappola grande bello questo è stato utile è stato veramente ben accetto va bene il rosso di questa macchia di sangue che riverbera ok andiamo di là anche perché come dire i piani di sotto sono finiti e quindi è meglio stare molto cagati ora il cui sei al sicuro non durerà tanto aspettati tesoro me li aspetto va bene chissà se abbiamo in animelle un livello secondo me no comunque stiamo trovando anime non particolarmente grosse andiamo ben per terra che non voglio arrivarci poi da questa parte per cadere come uno stronzo chissà quanti muri invisibili ci sono ma non voglio non voglio se inizio a cercare muri invisibili iniziamo a tirare spadate ad ogni cazzo di parete del gioco e non voglio farlo benissimo quindi accettiamo il fatto che ce li perdiamo qua rimaniamo fullati e qua stiamo così ok adesso a sinistra mi aspetto degli illitted non li sto vedendo cosa cazzo shortcut eh qua c'è qualcosa tempo di scavalca scavalcare ma quella è la bazza di scendere su questo ripianino qui anche ammesso che poi si risalga qual è la bazza? a cosa serve? per andare dove? là sotto non c'è un cazzo non serve mica niente eh? sì sì lo so gazzo ma l'ha rimosso solo dai dai tag cioè tu puoi fare quello che vuoi cioè non puoi più taggare prima era un tag che poteva essere inserito credo ora non più però per il resto si può fare penso magari ci pensiamo però l'ho sempre fatto non credo ci siano stati problemi reali non ho capito ah invece credo di capire è tutto un percorso di passaggini laterali ci pensiamo e credo che sia una cosa da farsi probabilmente la cosa da farsi aspettati suolo aspettati suolo questi passaggini sono fondamentali palesemente fondamentali tempo di rotolamento sembra il Cristo redentore di Rio de Janeiro come vedete si può camminare nei cosi quello sembra il classico come sarebbe un ponte della Viverna c'è un classico posto dove è meglio che tu non ci metti piede però dovremo pur farlo dovremo pur farlo lui sparerà solo in abbiamo delle macchie di sangue vediamo tu cosa hai combinato hai aspettato hai aspettato sei andato hai fatto l'avido e sei morto buono a sapersi voglio prendere quell'oggetto là e allora lo voglio fare anche di qua ma prendiamo questo oggetto che sembra un'andata e ritorno semplice posso camminare addirittura qui no ma posso vabbè però posso risalirci diciamo inquietante inquietante questa struttura adesso ci rientrerò ho paura degli illitid ragazzi e di cadere nel vuoto c'è bisogno che ve lo dica la paura più primordiale stocco di mercurio più uno tempo di morire no cioè tu per prendere lo stocco muori io vorrei scavalcare queste cose si preme tondo vero ma cerchio come mi pare o ma non è vero non si può fare e io come cazzo vado lì deve essere possibile prendere quell'oggetto non può andare così non può andare così non è possibile che sia tempo di morire morire no è una caduta quello è chiaramente fondale e qua non si cammina anche se il fantasma se ne torna indietro mi sarebbe piaciuto avere delle macchie di sangue qua non si vede una fava ma direi che davvero possibile che io non possa me è più avanti magari più avanti magari sto semplicemente addio il cambio di telecamera mi stava per ammazzare non dico niente che è meglio poi per piacere chi ha pensato che fosse una buona idea eh ma qui però il gradino l'ha fatto da sé in ogni caso qui abbiamo un'altra possibilità di quel genere cerchiamo di capire a che cosa può portare tempo di scavalcare e va bene con grandissima calma dignità e classe a rigore adesso non faccio non può essere nei miei pensieri l'oggetto tenuto lì cioè il ravanare con gli oggetti non può interessarmi peso essere qua comunque ma veramente avete messo tutto questo platforming ora sono felice di raccogliere questo oggetto molto mi fa piacere non importa miseria prova niente non fare nulla sarebbe no non ci credo prima lo facevi in automatica infatti l'ha fatto in automatico mi sento veramente sull'orlo però adesso devo capire se questo non è il pass questo serviva solo per prendere non è possibile davvero Dalek non potevi spiegarlo meglio l'ansia di chi sta facendo una lunga pratica burocratica e se sbaglia deve ricominciare da zero sai un modulo online infinito da compilare di quei siti fatti di merda e se sbagli qualcosa sei al punto di inizio allora qua secondo me non ci sono buzz ma la cosa inizia a farsi slim per i cercatori di buzz come me ovviamente doveva farlo doveva farlo Dio santo Dio santo ok a questo punto dobbiamo capire come si affronta questa cosa non vedo coperture e l'assenza di coperture mi dà da pensare mi porta ad essere molto non è vero che non ci sono coperture non è vero che non ci sono coperture prigione chiave del guardiano noi non dobbiamo vincere abbiamo già vinto abbiamo già vinto era questo l'oggetto ci siamo lasciati ci siamo lasciati delle delle porte delle porte dietro ciao yes sono contento c'è un solo problema non mi ricordo assolutamente dove dove cazzo erano la chiave del guardiano quindi il boss ma dove erano le porte non apribili chi se lo ricorda qua c'è il pozzo non ci vado a creare dovrò andare un pochino dovrò andare un pochino a tentoni eh ma la voglia di non schiattare ti porta a fare questi ragionamenti ora good game design idetaka la porta chiusa è qui vicina non c'è solo questa io sono stato esplorativo qui sì è qui vicino per forza è per forza qui vicino qui è da dove siamo arrivati arriviamo qua scendendo ci affacciamo la otterremo ma deve essere qui deve essere qui dai sinceri sono perso innanzitutto abbiamo messo in saccoccia la chiave importante direi abbiamo della gente da liberare no scemo io è il backtracking che dicevamo prima scemo io sorry 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 ho capito scusate ebbene e non è lontano va bene è giusto è qui è qui dove diavolo è quasi ah il PD il PD mi dice che devo andare qui vero? dove diavolo era quel corridoio con il tizio in prigione qua qua sereni 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 la cosa interessante è che questa chiave chiamata chiave del guardiano apre andiamola a leggere adesso non è che qua si lega mai tantissimo ma in realtà apre delle speranze chiave 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 del guardiano apre la sala del guardiano nella prigione forse allora non è forse no sì sì Dark Souls 3 l'ho giocato l'ho trovato su Wesaplay abbiamo fatto la blind run sì ma mi sto perdendo accidenti dove diavolo era il nostro amico imprigionato che secondo me amico non è mi puzza eccolo qua non si apre non era ancora una volta la sua va bene lo accetto andiamo a proseguire in alto no in alto tornerei all'inizio in basso porca miseria disorientering ok secondo me non si apre e invece si chiave del guardiano apriamo anche l'altra perché potrei schiattare da un momento all'altro ma perché sai che roba vediamo se è sempre lei esatto questa è un po' l'area non voglio dirlo finale finale di questo passaggio insomma di questa questo mondo questo livello lo potremmo veramente chiamare livello allora i gargoyle speriamo che c'erano i boss gargoyle come boss sono molto preoccupato molto preoccupato ecco l'illited qual è la sua gittata e il suo tre porca miseria devo rimettermi l'oggetto che mi rende silenzioso però posso avvicinarmi aspetta io sto per bestemmiare ragazzi no sei ti prego ti prego ti prego ti prego muoviti questo questo tizio mi ha appena rivelato un muro invisibile ragazzi questo tizio mi ha appena rivelato un muro invisibile ma cosa stava tirando le frecce al muro non credo che ne dite la vedo d'ora stava tirando le frecce al muro cioè abbiamo visto un fantasma di un player che tirava frecce al muro prossima cura me la faccio con la magia comunque ho sbagliato doppio illitido ma prima o poi doveva accadere prima o poi doveva accadere fai la cazzata fai avidità spezia fresca ma questo era quello qui ho visto un tizio che tirava una freccia rivolto da questa parte ma che senso ha nessuno no? in teoria però non mi ricordo a che altezza era non ho voglia di fare tutta la parete ma c'è un tizio di qua che faceva era solo un idiota eh certo cazzo li sento il trailer il trailer questi sono nel trailer questi si animeranno sono nel trailer so di non averlo ucciso tempo di valutare stai zitto questo è il collegamento all'altro lato questo è l'altro lato della faccenda adesso chiami ci collegiamo un secondo come sei morto tu? combattendo con Lily eh sì mamma mia che brutta morta è comunque un'area pesa questo tempo di valutare anima di ora è famoso forse nel trailer si animavano questi stronzi fai attenzione ma bene bene questi sono i due corridoi uno di qua e uno di là di fatto hanno un illiti da testa però sono molto vicine possono sono tutti qui bla 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 andiamo qui tempo di valutare macchie di sangue bello però giocare con tutti questi aiuti anche se a volte sono un po' spoilerosi 2700 anime non sono tante va benissimo aria simmetrica per scendere che io per avere la prossima arcipietra adesso debba fare un boss è veramente crudele ah guardate dove siamo è veramente una crudeltà mi dispiace dirlo ma è una crudeltà visioni di ratti è vero le abbiamo visti fogne no qua c'è dove prima non potevamo arrivare sono scemo scusate l'imbecillità di quello che ho appena fatto sorry scusate questa è grave palesemente ora sono cazzi amari si animano forse fammi capire leggi messaggio che ti prende dieci nove otto ok ma vai a cagare dai il ciao come fa una persona ad essere morta qui e tu raccomando ma vai a fang ma che gente di merda come ha fatto questo tizio a morire qui come hai fatto a morire qualcosa ti ha seguito è un illitid non si capisce si toglieva della roba però non era rimasto paralizzato dall'illitid simmetrico? no nebbia e salita nebbia importante naturalmente quante volte nei giochi di The Taka ha ste cazzo di salite da voglia veramente di bestemmiare tutto da giù un cavaliere nero che non gli devi rompere il cazzo come insegna aspetta ah no è solo decorazione potevo potevo stiamo buoni tanto comunque non ti da un'arcipietra senza un bosco quindi merda voglio di bestemmiare no no non può essere così lunga la faccenda ragazzi non può essere veramente così lunga che cazzo di torre è ma dove diavolo siamo? dall'altra parte peso peso qui abbiamo un 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 oh oh madre uno che ha seguito le mie blind forse la vedete una caduta per oggetto perché sono voluto salire che era un passo dalla nebbia che casino spero che questa scritta sia veramente illuminante ogni rumore mi terrorizza ma non posso andare avanti così sono nei guai raccomando ma che cazzo di pd sapete cosa non vedo tante macchie di sangue è solo esplorativo è solo esplorativo merda mi sto iniziando a cagare addosso è un'architettura allucinante comunque mi si spezza il cuore che signore che casino sono in difficoltà ho bisogno di chiarezza guardate guardate le navale le vetrate come si dice oh fuck quello si che è un boss di nuovo qui ma di nuovo shortcut ti prego dimmi di sì no mi hai detto di no mi hai detto di no non siamo mai stati qua di nuovo qui perché mi hai scritto di nuovo qui questa non è una shortcut non siamo non l'abbiamo mai visto non l'abbiamo mai visto questo luogo così infighettato siamo dentro alla chiesa ma in alto benvenuto non fidarti non fidarti anche se la speranza sia addentrata in me che meraviglia certo che ho 2009 Gambali spia imperiale tutto un bel set della spia imperiale lo studieremo lo impareremo wow vabbè 2009 la grafica di Bluepò non mi sembra un NPC è un caster cattivo è un caster nemico nostro ma nemici generici nemici generici non è l'arena di una boss forse sì comunque in realtà non ci interessa adesso perché io non non ho modo di andare oh scusate scusate una cosa c'erano per caso delle porte o dei passaggi no no è ciclopica quest'area incredibile è 100 duomo comunque duomo di Milano rimane ma 100.000 duomi di Milano cosa sono quelle cose che volano là pipistrelli pipistrelli i detacca pipistrelli oh si vede di sì comunque sia di andare dal lato opposto simmetrico non è non è per noi dobbiamo scendere di nuovo dalla torre probabilmente ci ritroveremo poi a salire simmetricamente la torre quella lì quella con i pipistrelli appunto che non vedo più che mi era sembrato di vedere la luna un po' stranino il cielo così rosso in un punto e bluastro altrove però vabbè vado ah non c'è dubbio che l'atria non finisca qui direi anzi che si sta mostrando come sia un'area vasterrima ma pensate lo studio dietro un'architettura del genere che meraviglia sarebbe bello avere un modello 3D ma anche solo poter vedere un video che te lo te lo mostra come si deve e sicuramente c'è su internet ora si schiatta dopo tutte queste chiacchiere si schiatta ecco sappiamo 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 e sappiamo allora sto per schiattare vero? sto per schiattare vero? orca miseria che figata guardate le quattro braccia anello anello dell'atto intelligente dovremo capire di che si tratta che meraviglia che meraviglia aumenta attacco quando i pf sono al 30% o meno meglio che un calcio in culo però noi che cosa abbiamo? la provvidenza faceva trovare le bazze la scoperta degli oggetti forse in questo momento va bene così non è una cosa che ci cambia secondo me tantissimo che aria mastodontica ma come cazzo faceva una ps3 a far girare sta roba comunque qua è pieno di macchia di sangue ragazzi quindi là suona male qui si sale da questa parte vorrei attivare una macchia di sangue me lo pentirò posso toccare ok meraviglia 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 dell'avventura pura veramente bellissima no vecchio non mi dire così non so che cosa ci sia qua però mettermi una porta così che non è neanche una porta è un po' un rosic guardare che siamo trasparenti a me era sembrato vedere dei pipistrelli non erano le mante di quell'altra area ragazzi bisogna stare molto cagati voi lo sapete purtroppo purtroppo se l'illited ti piglia sei fottuto e qua qualcuno è morto scappando da qualcosa sto per bestemmiare tutto tutto quello che c'è da bestemmiare tutto tutto ogni cosa è lì è lì allora questa è la fiamma se è simmetrico è la fiamma prima eravamo là ora siamo qua va bene bella lì quella persona è un bugiardo è un pc dobbiamo arrivare a 450 sub garu siamo a 334 questo qualcuno è morto ok ha cercato di prendere l'oggetto cosa che io non cercherò di fare mi consola questa morte perché è una morte che non mi riguarda nessun uomo è un'isola io non ci penso adesso l'oggetto sarà l'oggetto finale definitivo non mi interessa vediamo se è la stessa cosa dimmi che è la stessa cosa fammi vedere che cadi nel vuoto eh fare del platforming è sconsigliato sapevamo che c'era il tizio non sappiamo che cosa casta cioè qual è l'effetto della magia che casta se è qualcosa che con uno scudo alzato in qualche modo posso attutire evita miracoli o forse no chiavi se capita chiave speciale tempo di morire grazie al cazzo madonna ma che cazzo ok l'abbiamo fatto grazie barba brutta grazie del prime ma c'era scritto evita miracoli c'era scritto evita io era importante oh no oh no ora che l'ho ucciso potete spoilerarmi tutto cosa faceva sto tizio merda eh l'ho loccato per ucciderlo ho visto le sue ho visto i suoi punti ferita con quello meno ci puoi parlare ti dice qualcosa tipo sono un semplice servitore non voglio interferire ok ok ho quindi niente di così risuscita il boss se non lo ammazzi cercava di raggirarmi ok ok quindi in realtà ho fatto bene sono felice di averlo fatto quando ah vi ricordate la venditrice no la tipa la nobile che diceva lo si può ammazzare solo per un po' no credo che non cambi nulla botanica non ci ho mai non ci ho mai guardato non mi cambia credo che non cambia ok 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 diciamo che distinto ho fatto la cosa giusta e va bene così in una situazione come questa in un contesto come questo va benissimo così grazie Empedocle grazie dei tre puoi uscire dalla nebbia sì 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 va bene va bene abbiamo fatto la cosa ma d'altra parte lo vedi è inquietante è lì sopra che campeggia questo in realtà ci dice ma non volevo toccare questo in realtà ci dice che è come se è una zona di boss fight quella lì ma d'altra parte poteva essere diversamente oh mi sono impallato che strana sta porta ci sono state discussioni tra gli esperti su questa porta questa non è proprio apribile non sarà mai apribile è stranissima molto beffarda cat content un'idea abortita di mettere qualche cosa oltre bloodborne feels è un'eccitazione a bloodborne sì è vero Frankie questo è molto 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 vero quello che hai detto allora adesso io credo credo che con la chiave che ho ottenuto è strano però però in teoria sì dovrei aprire la porta della chiesa della cattedrale da quel lato si può intravedere un complesso identico a quello dove sei stato che se fosse il doppio di latria nella mappa di là c'è un po' di collisione ma non è dato sapere forse hanno specchiato perché hanno detto non esageriamo leggiamo diffida di un nemico nascosto allora se io fossi il nemico nascosto sarei nascosto dietro a quella stele sarò sovrinterpretando la risposta è sì ok vediamo come è morto lui mazza con quell'arma e quell'armatura è più avanti il nemico nascosto eh sì spoiler erano parecchio spoiler Jacker mamma mia grazie troppo gentile troppo gentile grazie mille grazie grazie del supporto mamma mia dieci non so come ringraziarti grazie mille davvero wow davvero grazie adesso avremo un po' di notifiche agli osa ma devo dire che sono le benvenute vediamo chi sono stati fortunati scusate abbiamo Raycom Igor Protti Const Int Toret W Snake 2015 Taiman Swag Meister Perry Into Death Mr Piccinini e Padovano Magniagati e grazie anche a Ciccio Benzina per il Prime per gli otto mesi eh ma si aggiornerà si aggiornerà diventerai sicuramente il numero uno e grazie Angelo no ragazzi troppo buoni grazie Angelo per l'elaboramento regalato a Luigi Super Trump in questi momenti mi sento in colpa per tutte le volte che sclero durante i boss mi dispiace ragazzi vorrei essere più più serafico in certi momenti poi ci penso e mi dispiace cercherò di essere serafico consideriamo che stiamo per affrontare un boss e quindi tutto questo potrebbe essere smentito tra un secondo però vorrei sappiate che nel mio Giove grazie mille del ancora per gli abbonamenti regalati a Letila Unschooled o Unscaled Federos Mau Ama e Rosmarino e Salvia bella per Rosmarino e Salvia grande Giove davvero grazie grazie mille vorrei essere una persona meglio ma credo porca miseria ok abbiamo un problema cecchino non lo vedo facciamolo preferisco così consumare erbe è una follia adesso ok Angelo questo mi ricuore molto allora dove sei non ti non sono mai riuscito neanche ad ipotizzarti eppure sono stato lassù sono stato lassù posso tornare lassù e capire meglio dove ti trovi però se queste persone sono morte dando colpi di spada o erano impazziti per il dolore e le bestemmie o tu sei sceso a un certo punto qui c'è il trigger da dove arriva non la vedo dritta davanti a me sembra holy fuck ok grossa per riprire la balestra vedete che un perry lo potrei fare ogni tanto basta basta affondi da vicino non me la sento di iniziare a fare perry proprio adesso ragazzi non me la sento confido che sia un nemico che una volta battuto non torna eh maledetta pensavo sareste andata giù ok ora si chissà chi era 1100 anime pietra pezzo pietra ok ok black phantom con baby snail per via dell'arma che usa famosa per i colpi in testa con la balestra ok 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 che cosa dite ragazzi vi chiedo uno spoiler io scommetto che è un nemico che non torna mi confermate che è un nemico che non torna ho bisogno di saperlo questo è uno spoiler di cui ho bisogno vedo che riscattate il nulla non torna grazie Yojimbo bella lì bella lì allora sorry è molto peggio Bobby infinitamente peggio quale distanze sono totali e poi ogni falò è un boss quindi falò non te li regala infinitamente di un peggio che si fa fatica a descrivere veramente ok sarà solo lei o no non lo sappiamo leggiamo oh no volevo leggere ah ma d'altra parte deve essere qua la boss no invece mi si apre per la nebbia giustamente perché poi si affacciavano dentro alla chiesa con il tappeto rosso giustamente è dentro è logico leggiamo il messaggio questo è facile purtroppo questa cosa mi evoca già bestemmia vabbè tu sei morto combattendo con la tizia ok la risposta è dentro di te ma vai a zappare un po' di uccisione non ha mai fatto male a nessuno allora consideriamo quale sarà il percorso per ritornare qui bella per l'emoticon intanto dell'hyp train che vi condivido il discorso è questo non è così complicato affacciarsi dove lui sparava e lui non sparerà più perché leva tirata e leva tirata nei souls quindi secondo me c'è un po' da impazzire ma non dovrebbe essere mostruoso è che ora nella mia mente non mi ricordo assolutamente che percorso è quale sarebbe la cosa migliore ammazzarlo per miseria wow oh no ma c'erano anche i mobbettini prima li avevamo visti è vero che è una chiave speciale è verissimo per aprire la gabbia del tizio sicuro quattro braccia sei quella della statua naturalmente in un braccio però ti ho un bel bastone da darmi sulla testa ok non voglio combattere bombettini e invece così non è le sedie ma voleva essere un riferimento a queste sedie e cosa cazzo stanno colpendo loro combattono con i fantasmi congratulazioni falso idolo falso idolo mi dà l'idea di un di una cosa gimmick è un'uccisione gimmick c'è un pulsante da premere lei è falsa c'è un pulsante c'è un pulsante è una gag è come sit è una gag c'è sicuramente un pulsante spezia stagionato c'è un pulsante è una gag è una gag un'altra volta non c'è fine a tutto questo ah perché questi non avevano ammazzato il tizio ah beh allora però un po' di combat ci deve essere se no che fai speriamo che sto scudo pari un po' alla magia credo proprio di no ma con cosa combattono questa cosa è assurda ma facciamoci qua e capiamo come sono morti questi ragazzi da qui in poi sono morti ti sei affacciato sei andato lì con la tua balestra e qualcuno così tac 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 ma cazzo che strana morte e tu come sei morto ti stavi curando ma sei in corpo a corpo con qualcuno e non possono essere i mobbettini quindi le sedie le sedie ragazzi sono arrivate anima di soldato addirittura drop del mobbettino lato del nobile sono molto preoccupato arriva si è mossa ok ho fatto una magia d'area lì mi fa danno a prescindere eh no porca miseria cazzo 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 merda 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 aspettatemi strana sta boss fight colonna per colonna colonna per colonna la spada la spada la spada sai c'è un boss vorrei loccare quello grazie no porca miseria unghia dell'infante ma tu dimmi vai a zappare ah mille immagini illuso oh che palle sti stereotipi dei maghi vai via simon sei simon nel cuore sei simon non prendiamoci in giro non il nemico più mobile che abbiamo mai affrontato dieci nove otto no dice si spam ragazzi avete visto lo spam grazie grazie calvignolo grazie del supporto devo fare questa cosa la devo fare adesso perché sono corto di erbe questa cosa inaccettabile ma vera inaccettabile ma vera sono cortissimo di erbe e non posso fare tanto lo scarciullo relax no forse è il caso di levarsi dal cazzo cosa mi dite ehi ehi via via levati dal cazzo simon levati io sbaglio io sbaglio sbaglio ogni volta a fare questa cosa sbaglio ogni volta a infierire così non ha senso con lei ok bisogno di loccarla in realtà mi piacerebbe molto no ti prego vattene 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 no maledizione è finita la pazza serenità serenità 19-8 di qua no cazzo pt ok la rana la rana simon non c'è più non c'è più nessuno ok ho colpito nessuno le sue rune o come cazzo sono di qua papapapapapapapapapapapapapapapap". Siamo qua in mezzo Vabbè Andiamo qua Vabbè Andiamo Ti prego Non morire Che cazzo Quindi non è lei Ah colpiamo l'altra Oddio Zio Ok Si è teletraspottata Te ne puoi andare Vattene Simon River Oh Cristo Oh quante Oh quante Oh quante Oddio Scusate Per piacere Non morire Questa è la più easy Da raggiungere Non è inutile Non è inutile Ok Vaffanculo Ok Ok Tre Niente trappole Niente trappole Ti prego Grazie Ah questa è una colonna Intermedia Sì Giusto No sono io che sono scemo A posto Scusate Ok Sicuramente Sicuramente c'è un modo Per distinguerlo Per distinguerlo Visivo Certo che se hai un caster Quanto ci metti un minuto Muori grandissimo Che culo Oh yes Trofeo del falso Italo Oh yes 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 Ho capito Ho capito Yes Bene 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 Una serie di pensieri Mi attraversano In questo momento Alcuni non possono Essere espressi Ma uno sì Dove cazzo È l'arcipietra Non c'è nessun arcipietra Perché non serve a niente Tornare qui Non serve a niente Il dito dell'infante L'occhio L'occhio della madre Oh no 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 raga Sto No Stavo sereno No Ah Ah Anor Londo Anor Londo Anor Londo Ok Ah no Ah È presupposto Che abbiamo fatto un passaggio Sembra veramente Che ti abbia tirato su E sbattuto giù immediatamente Non ti ha fatto capire Tanto che in mezzo C'è stato un lungo volo Ecco Torna indietro E vai giù Torna indietro E vai giù Sono due troll Sono due troll E nessuno ci ha creduto E non ci sono macchie di sangue Non c'è arcipietra Non c'è arcipietra No non lo faccio Non lo faccio Non c'è arcipietra La voglio adesso L'arcipietra Ragazzi Io la pretendo Sta cazzo di arcipietra Ora però Grazie Grazie Ma anima Demo le bambola Che è quello che abbiamo battuto Mi guardo un attimo intorno Già che siamo qui Ci affacciamo Là c'è un proseguire molto complicato Alta latria O latria Però fa pensare a latrina E che non è giusto Nei confronti di una delle aree più fighe Della storia Bellissima quest'area Come cazzo sei arrivato A lasciare un messaggio lì Davvero lì si riesce a passare E non ci proverò Ovviamente Veramente bella quest'area Un po' ripetitiva La prigione Però vabbè È una prigione Però è veramente pazzesca Quest'area qui Pazzesca Tra i vertici È del nostro Dovrebbe essere Una versione finta Della regina di latria Usata per attirare le persone E a scendere al piano superiore Quella di cui parlava La prigioniera di prima Con cui in realtà Sì 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 esatto E con cui in realtà Varebbe la pena parlare di nuovo Ciò nonostante Abbiamo 12.000 anime Ben più di 12.000 anime Abbiamo Un livello solo adesso Beh sentite La forza non è che la possiamo dimenticare Probabilmente farò con la spada bastarda Farò Oppure con la spada lunga P1 Draconica Lì come si chiama Che mi ha dato prima Probabilmente lì farò la spada Tutta sulla forza Non sto a distruggere La spada più 6 Però Probabilmente userò quella Che chi se ne frega Di rimetterla Alla base Diciamo In ogni caso Prendiamo un punto in forza E spacchiamo le animelle Fammi finita Fammi finita Scusami Tu che sei la super capa Fammi finita Non è che hai un parla Vengo le candele accesi No Ostrava Ostrava Mi dici qualcosa di bello? Ma forse la nostra epoca Una botta di ottimismo Parliamo con Il Crestfall De No Antri Non sei un ottimista Non capisci che sei caduto Nella loro trappola Peso Ehi tu Hai visto la mia forma corporea? Il mio corpo si è decomposto Ridammi il parla Mi spiace Per favore Lassami Mi spiace Chi sei tu? Non ricordo l'una Questo sta per perdere il senno Classico Peso 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 Eh sì 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 Spacchiamo le animelle Questo lo mandiamo al deposito E tutte le altre Le spacchiamo Andiamo a sbagliare Oh 19.000 Dov'è la nostra amica? Lassù Deve essere Lì Esatto Bella lei Ci stava qui però Va bene Scusa Sono Dei problemi Sono due livelli Mi spiace dirlo Ma faccio Vitalità E resist Potrei quasi fare Doppia resist Madonna Fatica Mettersi un'armatura addosso Ragazzi Farò vitalità E resistenza E vado 6.200 Questo vuol dire Che dobbiamo fare Dobbiamo fare Un po' di anime Sono le 18.31 Oddio ragazzi Ci fermiamo qui Per oggi Pesissimo Ho colonizzato Il soggiorno Per tutto il giorno Bene 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 Sono le 18 Stiamo giocando Dalle 14 Posto Bene 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 Figo 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 Al di là Del fatto che Semplicemente Il Il flame lurker Non andava affrontato Adesso Non era imbattibile Però Ci ho sprecato Tantissime erbe Purtroppo Molto figo Molto molto figo Molto molto figo Bello Latria Ci sono In realtà Bisognerebbe riparlare Sia con la Vendor nobile Che con Il tizio imprigionato Però Non Non sarà Quello che faremo La prossima volta La prossima volta Direi che andiamo avanti All'atria Presumibilmente Anzi direi quasi per forza Oppure potremmo provare Ad affacciarci In qualche altra area La vedo dura Comunque sia Grazie Grazie mille del supporto Grazie di aver seguito Siamo a 354 Ve lo dico nel caso Quindi siamo saliti parecchio Come abbonati E ci vediamo sicuramente Domani faccio una live extra Non direi di Demons Ma di qualcos'altro Non di guida Però perché ho le mani Che mi fanno malissimo Quindi devo stare almeno Senza guidare Fino a lunedì Sicuramente Demons Ritorna Demons è il giovedì Alle 15 Se non dico male Però sicuramente domani Non so in che momento del giorno Infilerò Una live extra Grazie di aver seguito Ragazzoli Vi metto anche la sigla finale E ci vediamo domani Sicuro Eccola qua Non sono un amante di lo schifo Non sono un amante di lo cazzo Non sono un amante di lo ottico Non sono un amante di globo Oh no Quanto blu Quanto blu Quanto blu Fai a zappare Ma dove vi teniste? Ci penso io A me ci chiamo Sì Sono un amante di lo schifo Papa Simon Ma dove cazzo Spari Simon Il Detacca è uno che ti chiama Col numero privato Ma tu sai chi è È l'unico che lo fa Pronto? Pronto il Detacca? Sì? Oh no La stiamo scattando No 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 Pazz seated No no Prima cura Prima cura Va no 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 Ma dove cazzo vai? E' meraviglioso, che giugno è proprio una mia stagione E' proprio una cosa stagione di scienza No! Porco Dio Stiamo scazzando Stiamo scazzando Stiamo scazzando